tu mangi sulla mangi sulla tastiera buon pomeriggio a tutti quanti ragazzi dovreste sentirci molto bene quindi buon pomeriggio a tutti oggi è 8 febbraio sono le 14 02 e dopo una settimana di assenza si ritorna con la morte nel cuore possiamo chiamarla la morte nel cuore le sentivo il villaggio raccolando che ormai sei un fan e un campione dei souls magari il microfono andare a resident evil ormai per te è un downgrade un pochettino sì devo dire la verità che ormai ne sono abituato bene un'altra allora una luce allo strassa sui volti si è voluta è voluta è molto caldo oggi questo oggi è molto caldo volevo una luce molto calda allora oggi mangeremo durante la live no mangeremo prima che chiariamo durante la live questo è il tuo calabrone te l'ho chiesto perché so che tu sa mantenere il piccante l'avrei prete semplicemente hai smesso di mangiare piccante sempre piccante tutto io metto tanto però che non ti vedo mangiare piccante momento il peperoncino ovunque no volevo prendere qualcosa di diverso almeno ma non li smeziamo perché è molto grande perché sono smezza lo devo già dividere perché non è che lo mozzico con ci sbavo dentro mi cade la salita tra parentesi hanno detto che se io lo chiedo se io lo chiedo porca è un po poco questo sta venendo la bestemmia è un po poco questa cosa ok che se glielo chiediamo il giorno prima ce lo consegnano anche perché gli dobbiamo chiedere il giorno prima perché non sono attrezzati per fare consegne a mezzogiorno lo fanno soltanto la sera se glielo chiediamo prima che fanno il rider ah è interessante comunque oggi abbiamo preso due panini in una probabilmente credo sia il posto tra guarda esagererò per quel poco si esatto per quel poco che vedo che ormai navigo terni uno dei due quello lì che sta via come si chiama burgerette com'è che si chiamava no quello strano quello con tutti i nomi delle robe ternane esatto ma che burgerette no però al nome al nome con una parola ternana vabbè non me lo ricordo ma comunque comunque direi che bel panino si presenta bene anche questo mio non si può non possiamo il tuo più grande il mio anche molto più perché direttamente proporzionale dimensione del cazzo e vabbè allora io devo mangiare uno stuzzichino infatti c'è quello dentro quello la miniatura questo è questo è il cazzo faremo grande è molto grande però è la dimensione del panino è molto importante a te non piacciono le patate dipende ti piace questa risposta no non sono un grande sono sono iper amante delle patate fritte io potrei mangiare patate fritte tutti i giorni ma il resto il resto no il giusto anche un grande amante del gatto di patate o degli gnocchi senza battute però la patata veramente in qualsiasi forma no anche tu me cacchio l'approcci questo coso qua è che tu non sei un amante della patata femminile è quello che secondo me limitante quindi oggi ragazzi non giocheremo ma parleremo col panino parlerei parli con un panino buongiorno panino è molto piccante quello mio tra l'altro ne ho preso doppio non lo volevo doppio doppio per forza perché fa ridere dici che è possibile finirlo impossibile impossibile finirlo tra parentesi vorrei dire il tuo debito sta raggiungendo dei dei livelli mostruosi andiamo verso i 50 è qua lo faccio pubblicamente mi dispiace perché purtroppo non glielo ho dati prima che lui mi ricordasse ma oggi ero passato appositamente al banco ma ti tieni aspettiamo di arrivare a 50 no ti do 50 euro per il disturbo per le pizza che per le birre che prendi al cortocircuito comunque adesso io devo riconoscere di una gentilezza anche se non sembra perché chiaramente una persona con problemi però da quando abbiamo ricominciato il cortocircuito in presenza si presenta sempre alle 5 meno 1 ma con le birre gli stuzzichini per fare l'aperitivo dopo ti vorrei dire che per gentilezza ma invece sono talmente solo in questo periodo che per me l'aperitivo del cortocircuito in redazione è il picco della settimana della socialità pensa te comunque questo è giusi giusi è buono quello alla fine molto buono molto piccante molto piccante e hai delle hai delle news a parte che rompe prometti di non rompere il cazzo con blogbon vabbè però discutiamone ma l'ho vista cioè parliamone parla nel microfono e parlatemi parlane parlane di quali non parlo non parlo neanche lo esaurisci del dibattito non c'è tantissimo da dire però c'è da dire che per una volta voi ragazzi non so se lo seguite da solo però se più o meno l'audience è la medesima e ieri ha giocato blogbon la seconda puntata ha fatto le seconde due ore e alla prima rana ha battuto come si chiama padre gascogne alla prima trai tutti hanno un nome lo sai come tutti i boss sono famosi per avere un nome non è vero ci sta il drago della tempesta non è che si chiama giuseppino il drago della tempesta vabbè cosa c'entra il drago della tempesta voi che si chiami marco drago della tempesta di solito è un animale a un non può avere un nome del drago però magari poteva essere il vecchio della montagna però una cosa vale la poteva essere il prete rinnegato che ne so il padre sconsolato si poteva chiamare comunque veramente mangi come un animale di merda siamo un maiale unito a un fagocero unito a un cinghiale mangi in questo modo te fai vomitare decisamente buono giussi però esattamente butta via i sughi butta fuori i sughi buonissimo è veramente importante si chiama ai come ai come artificial intelligence chef ai ai chef e sei in una zona di una bruttezza cosmica non me l'hai aperta sei riuscito a non aprirmela e hai anche nascosto il cavatappi non l'ho fatta apposta pensa leva la mano beh dicevo che cos'è la tua cosa sbravissima sbravissima il cazzo volevo dire ah no dicevo che praticamente ha battuto questo padre gasconia la prima trai ora ed è effettivamente comunque un bel traguardo esatto però partiamo dal presupposto che per quanto io sia d'accordissimo con te che visto che il gioco e i boss è programmato di merda ho voluto non lo so a quel punto però direi calcolando se l'altra gente non se ne accorta ha avuto il vantaggio di sostanzialmente stare dietro delle lapidi lo sai che ho avuto tantissimi commenti non lo sapevano no no tantissimi commenti che dicevano tutti che non è un non è un uncito un bug il boss è proprio strutturato perché dopo li rompe cioè fatti per lo tali che tu devi essere bravo a capire sfruttare l'ambiente cioè non è che hai fatto un trucco infatti sono d'accordo perché dopo le rompe ha perfettamente senso ma resta il fatto che c'è come gameplay ha comunque poco senso cioè nel senso ok ti puoi proteggere dietro le le lapidi ma non dovresti poterlo colpire da dietro le lapidi cioè se lo vuoi fare veramente sensato nel senso che devi 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 scoprirti lui ti prende dietro le lapidi più di un'occasione mi prendeva da dietro le lapidi ma perché tu sei imbambito una persona normale quando capisce quello sta lontano quando lui è fermo bom ne fai uno invece tu gli vuoi sempre dare quel secondo colpo di merda ti piaceva che era fastidio perché muori così l'hai visto puramente ha fastidio riguardarmi sempre bom e poi dopo aspetti che lui riparta è una stronzata considera che padre gazza è così tosto per i novelli che il 50 per cento di chi ha provato blood blood ha abbandonato il gioco a quel boss e ci sta però gli è andata bene che ha capito subito quel trucchetto lì tre quarti dell'energia se ne sono andati dopo c'è la trasformazione di cantropo quello l'ho aggiornato molto bene e l'hai fatto bene però blood blood lo vedo molto meno punitivo di sekiro nel senso che io ho visto per la bestia quella lì è proprio infattibile non l'ho ancora visto non l'ho visto quello veramente per tutta la durata del della partita ho visto che ti sei ricaricato in continuazione cioè sono infinite le le luti ne luti abbastanza in realtà quindi c'è dato quel presupposto lì non la considero un'impresa epica fa ridere che sia stato tu a farlo con gente io me lo sono rivisto per leggere la chat per leggere la chat perché ovviamente non la vedevo durante il boss e fa ridere perché vedi la trasformazione della chat tra fa schifo va male poi cominciano a fare oh ma vuoi vedere che oh ma qua c'è il rischio che c'è la trasformazione della chat incredibile che diventa incredula alla possibilità che lo faccia fuori invece questo credito quello che ho fatto alla prima puntata senza mesurarlo è anche per gran parte della seconda prima di dire basta me ne vado vado a fare un'altra cosa e dovrebbe essere in scala prima prima il primo e non c'è stato verso di passarlo sarò morto 60 volte no ragazzi non sono panini di una catena grazie a luigi per i 10 abbonamenti regalati stavo dicendo come al solito luigi sei meraviglioso se noi vogliamo che vieni qui prima o poi in redazione non so più come dirtelo sono famini di una di una burgheria ternana dove tra l'altro non si può neanche mangiare dentro cioè proprio li prendi li mangi per forza al limite fuori in piedi che si chiama scusate ai chef o ai chef perché poi si chiama un nome di me come artificial artificial intelligence non si sa perché magari si chiama antonio immacolato magari nella loro testa era tipo iphone e l'hanno italianizzato devo dire si vorrebbe essere ai chef è vero non ci ho mai pensato ai chef ma scritto proprio ai chef grazie l'hyptrain di livello 4 grazie a tutti l'hyptrain di livello 4 se fate l'hyptrain di livello 5 alessio beve la birra tutta di un sorso devo devo dire che in aspettato comunque sempre gradevole hanno anche un minimo di cura nel packaging nella confezione senza picchi però dignitosissima comunque dicevo è una non è una catena è proprio una bruttezza unica nella periferia di terni che già terni fa cagare a livello centrale ma riesce ad avere le periferie in cui fai fatica di qual è la periferia più brutta di terni perché fai fatica a dirlo è più brutta dove siamo noi in zona qui o quella allora per me è sono tutte periferie brutte avrebbero il vantaggio lì perché terni è a piedi della dell'appennino è una vallata nell'appennino tutto appennino noi abbiamo altre montagne per appenninici non so se appennino non so se appennino secondo me sono non sono non fanno parte dei monti dell'appennino secondo me la conca intorno a terni non è appennino secondo me la parte sì per forza secondo me no beh comunque è precollinare premontagnoso quindi alcune periferie sono inerpicate su queste colline montagne che potenzialmente sarebbe anche una figata soltanto che poi ci costruiscono questi questi posti alluginati ma poi l'antopo sai ho fatto quel ponte lo sai quella del ponte l'hai fatto quel ponte quel ponte qui di fianco per arrivarci da qua quello con l'avvallamento sbagliato perché hanno costruito neanche neanche in zambia senza senza nulla togliere sempre ma perché cioè ci deve essere sempre un confronto con i neri cinesi ma non con i neri le minoranze con un paese del terzo mondo ma perché il tuo ma magari in zambia sono architettocriticamente le strade sistemate c'è veramente questa questa cosa qua incredibile e hanno fatto un ponte che avrebbe dovuto accorciare appunto appunto il raggiungimento tra questa parte e questa periferia e quando sono arrivati hanno costruito il ponte sono arrivati con le strade ci sono accorti che il ponte era troppo basso e cioè praticamente è una parte era più alta dell'altra ed è praticamente un ponte fatto con due dossi pericolosissimi che oltretutto ti distruggi la macchina se ci arrivi di notte che non lo sai disintegri la macchina è incredibile quella roba lì cioè come fai ad arrivare ma poi non è che hanno costruito 16 abbiamo fatto delle strade in me con le gallerie in mezzo al limo una roba complessa da fare però un passaggio su una storia banale c'è un punto molto più alto dell'altro per cui fa questa discesa con salita una roba completamente senza senso ma recente l'avranno costruita dieci anni fa massimo è ma proprio massimo secondo me meno meno roba incredibile nel nulla ragazzi cioè potevano tranquillamente sfruttare quello che gli voleva perché stiamo nel mezzo del nulla io non so come tu riesca a mangiarlo no no adesso guarda mi sei anche distrutto come te l'avevo detto che non avrebbe retto capito mi ha detto all'una e mezza vado a prendere da mangiare prepara tutto che per i due siamo live col mangiare io ho preparato tutto all'una e 34 stavi qua io all'una e mezza ho preso il panino ma papo ti andrà più piano a tornare che cosa cambia se torno a andare più piano cioè loro no perché loro l'avrebbero preparato lo stesso grazie a manfrost che ha regalato dieci abbonamenti hype train livello 5 ma qual è lo scopo vai birra tutta di un sorso mi devi dire qual è lo scopo e che non ho capito che sia grande grande grazie per la hype train di livello 5 sei un tesoro manfrost grazie 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 qual è lo scopo ma perché regalare intanto è come scegliere le persone random cioè non tu li regali a gruppo va random altrimenti puoi regalarlo singolarmente a chi vuoi te ok e lui li regala ma qual è giordana ti chiede la foto di google street sull'instagram di alessio del ponte vuole che fai una foto a quel punto fatto male giordana stavo pensando prima di fermarmi e non l'ho fatto per fare una storia avrei fatto una storia di instagram solo che non ho idea se si percepisca bene no le cose con la telecamera non si vede mai però vedi però secondo me se passa una macchina si capisce beh comunque se già fai da sopra capisce che è una cosa non normale con la super discesa un ponte con la discesa comunque quindi devo guardare effettivamente su google maps se si vede sei stato soddisfatto nel mio gameplay del tuo gameplay comunque allora sì sì secondo me quella è una serie interessante capisci che secondo te è perché blood one è facile non ci può essere l'ipotesi che un po stia entrando nel meccanismo no perché il meccanismo era quello di demonsor se vuoi questo è identico demonsor se più che segiro però magari che segiro mi ha allenato i riflessi secondo te è possibile che segiro sia un gioco ingerrato di allenare il fatto che in realtà non riesci ancora a padroneggiare quella counter che fai con la pistola ti dimostra che no è che quella però non capisci quando c'è non è che non la padroneggio perché noi riflessi giusti che si capisce quando devi sparare cioè non si capisce il momento giusto in cui sparare quello è il problema non è che un indicatore perché c'è un indicatore non è che c'è un lampeggio dici cazzo però lo fai male no che si capisce quando devi sparare intanto grazie anche a luke sporker luke skyporker per lavoramento ragazzi finiamo di mangiare poi giochiamo senti mi dici sta vivendo bob fett che è passato dalla merda cosmica e la serie più bella di tutti i tempi di star wars non so se hai visto ho visto solo le due puntate ho visto l'ultima credo domani che c'è sanno l'ha visto vincenzo robby rani il gab tutti che giocano a spadate col cazzo la serie ho visto solo due le due puntate legate a mando io ho visto solo la prima ho vomitato a spruzzo non ce l'ho fatta vedere le altre non devi guardare guarda soltanto quello tu l'hai visto mandalori a te non piace però è accettabile come intersegnamento c'ha bellissimo finale puoi guardare quelle due puntate ma io posso vedere bobba fett per due puntate ma non c'è bobba fett in quelle di proprio ho capito ma posso vedere una serie in cui guardo solo due puntate sì perché non c'è nessun continuum cioè hanno hanno creato un setting con bobba fett non si sa esattamente dove vogliono andare a parare ma le puntate sono la stagione il prequel della stagione 3 di mandalorian incredibile cioè adesso ipotizzo che con l'ultima non voglio spoilerare però lo faccio e penso che con l'ultima spero che ritorni fuori bobba fett nella sua serie perché sennò diventa ridicolo perché non c'è stato in tante puntate grazie ordine caotico per i cinque abbonamenti regalati grazie ma scusami ma mentre io gli dico che è una stronzata fanno bene perché invece così ci dimostrano affetto mentre noi mangiamo ma non è affetto dimostrano stupidità ma perché perché non non foraggiare creator online che producono contenuti di qualità mi ha rotto il cazzo ci credo io però lo finisco il panino basta mi ha rotto il cazzo il come si chiama sto guardando per esempio guardato sempre per il mio tempo libero un'ora e quaranta c'è un bellissimo canale che si chiama defunct land su youtube defunct land morto land defunto defunto ah ok ok che fa praticamente ricerca sulle attrazioni dei parchi a tema che sono andate in digiuso ok la storia dei parchi a tema che sono andati male no ma no che sono passate perché sai c'è un ricambio fisiologico negli attrazioni dei parchi a tema disney world quindi sulle attrazioni dei parchi non sui parchi a tema esatto o le divisioni di spin off i progetti di disney disney club robe che non sono mai arrivate in italia e ho guardato una dissertazione di un'ora e 48 credo un'ora e 42 sulla storia del fast pass di disneyland ti ricordi che ci ci non c'è più quindi c'è una forma particolare adesso si chiama genie alla forma del genio della lampada ma è bellissimo perché ma di will smith proprio del genio della lampada anche will smith era blu non l'ho visto non l'ho visto ma nel film è blu anche lui per te era un genio della lampada nero era un blu nero cioè perché tu giustamente sei impazzito all'idea del genio della lampada will smith il dovresti vederlo perché è un bellissimo trattato molto approfondito sulla sfida che è ed è che è stata ed è tuttora non risolta come gestire le file nei cazzo di parchi a tema è una roba proprio sulle file tutti i tentativi che hanno fatto per ridurre le file premia non sia impossibile perché fa parte delle file e la gestione puramente del caos no perché loro no e infatti fanno fatica a uscirne ma no dovrebbero non c'è credo possibilità se non contingentando l'ingresso no non puoi partire devo risolvere un problema è impossibile risolverlo stanno sbattendo la faccia da decenni sul problema sì ma io sono convinto che geni è un prototipo di questo io devo poter andare a wall disney dire le attrazioni che voglio vedere e lui mi fa un itinerario dove perdo meno tempo possibile una fila di massimo 5 10 minuti delle attrazioni più congestionate cioè lui ti costruisce l'itinerario a partire da quello che tu scegli gli dico voglio vedere queste robe qua voglio un'ora di pausa e ti dice impossibile se è impossibile perché è impossibile ma calcola fa vedere l'andamento praticamente il 75 per cento delle persone 72 per cento riesce a vedere due attrazioni è una roba allucinante ci sono dei giorni in cui secondo me ci sono racconti in cui veramente non riesci a vedere nulla a disneyland cioè l'hai mangiato tutto ma come fai a cagammare come fai cioè dopo che hai mangiato un panino del cielo non ho mai cagato il mare io ma dopo sto panino se sarà la prima volta cioè come fai a mangiare un panino così grande non riesco a rilasciare lo sfintere non rilasciare perché non è che come si dice rilassare lo sfintere rilassare come fai a mangiare così è vero se non è la notizia bomba di sonic ha acquisito kadokawa o una stronzata non so neanche cosa sia kadokawa come non sai chi è il proprietario di from software è il proprietario è quella grossissima che possiede from software tra le altre cose una cazzata è una bomba clamorosa ma cosa fa kadokawa non so che altri business ha forse guardare internet e così via ragazzi che dicono che rilasciare lo sfintere è un prolasso forse rilassare infatti ho detto rilassare domo se l'è comprato ed ora pulisce ha uno steak ma lo steak è da una vita ragazzi che c'ha dentro kadokawa una notizia vecchia che c'ha delle azioni kadokawa ma tipo è l'1,6 per cento cioè parliamo di niente proprio allora alessio parla di sfintere rilassato e cagante mentre stanno mangiando voglio cenare con voi mi chiedevo oggi mentre facevo la cacca si ma fai tutti i giorni tu sei uno regolare da tutti i giorni di cacca da quando sono a casa qui faccio colazione quindi due anni beh a casa due anni va bene io venivo in ufficio e faccio colazione tendenzialmente caffè lei le 83 ti dice non sei venuto a corma ieri amore chi è le 83 emanuele a 83 dici di no le le sono emanuele secondo te più che emanuele magari erano tante emanuele è vero era un gruppo di emanuele sono le emanuele ci sono andato erano la letto nude tutte emanuele stavano lì che ti aspettavano comunque volevo allora farò una legge una lettura molto veloce perché oggi siete stati tantissimi allora volevo ringraziare gerico per l'abbonamento johnny spada per l'abbonamento tutti quelli che hanno fatto forse però questi qua erano no scusatemi questi qui erano con ivan quindi non li voglio ringraziare anzi siete un po delle teste di cazzo che vi siete abbonate con ivan scherzando grazie da picciuttoli grazie a leonix 95 grazie a haran de lazza grazie a ordine caotico grazie a luigi x 97 lo ribadisco ha regalato 10 abbonamenti grazie a mc sonny fanca blast mr kiss siri raki fante confuso 95 grazie a manfrots anche lui che ha regalato 10 abbonamenti carlentus like sporker che ha regalato un abbonamento uos 85 e ordine caotico quindi grazie a tutti voi e grazie anche a chi ha fatto following dunque vediamo un pochettino ci sono 1500 persone non lamentatevi oggi ma è soltanto alessio che si lamenta dei numeri non io quindi io non mi sono mai lamentato dei numeri lele comunque daniele una quantità di aria che è incredibile allora che senso ha che porre il live contemporaneamente a voi e dei pepecans e che ne so probabilmente vuole fare una live non è non è che non è che ma che il luca non può fare live se ci siamo noi è dopo quel panino manca un caffè alessio in realtà andato a fumare sperava a prendere anche un caffè però non è così tra l'altro in creeper adesso ho mangiato tutte le patate e un panino enorme io ho lasciato almeno un terzo di panino avrò mangiato tre patate cioè per me è immangiabile roba del genere non so veramente come fa un essere umano normale a mangiare così tanto come alessio mamma mia incredibile allora io ho fatto prima perché ora sto a lavoro ciao gerico grazie se carico domani per il galaxy unpacked o no assolutamente no non solo per niente che no scusate lo seguirò assolutamente tra l'altro domani sarò a milano perché è interessato penso nessuno sia domani che giovedì lo seguirò con vincenzo in live dalla redazione di milano e zero curiosità zero attese perché chiaramente ls 22 senza nessun tipo di interesse in proposito sono più interessato per capire se veramente fanno il rinnovo dei tablet come si vocifera allora fatemi vedere pierpa ma fallo smettere di fumare è impossibile anche perché tu vai a correre a villata sì tra l'altro stasettimana con rebecca in quarantena fiduciaria a casa un dramma quindi non sono riuscito ancora andare a correre stasettimana allora andammi a vedere alessio nel normale pier era buon almeno buonissimo nikekin buonissimo nikekin ma sei nikekin la tipa di fiumicino con il ristorante io mi sto organizzando per venirti a trovare visto che mi hai invitato ufficialmente quindi se sei lei mi sto organizzando ti volevo avvisare questa cosa qui quindi secondo me si incastrerà prima o poi cerco di portarmi presso anche alessio beh se alessio alla panza ci sarà un motivo vero vero dacci un motivo per seguire domani voi e non hd blog shepard non posso darti un motivo del genere e cioè dipende dai gusti chiaramente se c'è non mi offendo se seguite hd blog se volete stare con noi sicuramente avrete una live più divertente questo è senza ombra di dubbio che smartphone hai one plus confermo one plus 9 pro possiamo venirti a trovare redazione chiede paolo a sciotti assolutamente sì la redazione di terni ma anche quella di milano modellatamente sono sempre aperte quindi basta scrivete un messaggino e ci mettiamo d'accordo a torino non venite mai chiede luca denze in realtà sono stato a torino tre giorni o due giorni mi ricordo quanti per un evento sono stato a torino con grande piacere quanto ti preoccupa la proposta di un nuovo scale bound fatta fil tantissimo ti invito a cena domani sera ci sei a milano mi chiede vroniana allora cena mi sembra estremo perché c'è giordana che mi ha chiesto di mangiarci una pizza insieme domani sera giornata domani una giordana domani avrà una giornata di fuoco però un bell'aperitivo perché no una birretta un dopo scena io sempre con piacere pierpa di volo ringraziare mi sono fatto un pc con b660 as rock e i 5 12.004 attivi prestazione bravo bravo bravissimo grande accoppiata don eladio grande accoppiata pier ti seguirei pur se facessi live nei musei perché che vuol dire cosa c'è di negativo nelle live nei musei non l'ho capito wow siamo mille e quattro ragazzi ma queste siamo sempre meno prima eravamo mille e cinque siamo mille e quattro fra un po siamo mille se continuiamo così allora oneplus 9 pro esclusiva tua perché sei super campione non si chiama pro oneplus 9 il pro che non è non si chiama pro plus oneplus 9 no dovrebbe essere oneplus 9 pro mi stai facendo vendire il dubbio ma secondo me il oneplus 9 pro secondo me scusa oneplus come si chiama non è pro che è plus 9 plus no 9 pro secondo me oneplus 9 pro non ho capito tu c'hai il oneplus nord 2 allora adesso è andato a cagare si è andato a cagare ma non hai preso poco il caffè ti ho chiesto prendi caffè ti ho chiesto sei scemo scusami ci sta la chiavetta di là vabbè allora vado a piamma in caffè allora però io che cazzo dopo sto panino birra ti bevi in caffè cioè ma non dormi fuori scorreggiato o no si è fumato la paglia si sente perfettamente ti chiedo perché continui a fumare ti chiedevo giustamente in chat perché continui a fumare sono molto preoccupato stanotte mi sono svegliato con la tosse non so se sono i postumi del covid ma i casi sono due perché non ti svegli mai con la tosse no però sei preoccupato ti sei svegliato con la tosse perché mi sono svegliato che perdevo perdevo liquidi dal culo una tosse fastidiosa secca strana comunque strana una tosse strana ma da cancro è possibile quindi oggi ho fumato una paglia stamattina una colazione molto molto leggera ovvero no latte latte con banana e mela come la fai se raccontami tu fai raccontami un passaggio tu prendi un bicchiere di latte freddo bianco di solito la cosa più semplice è lo standard poi le varianti fa qualcosa alle unghie perché stai raggiungendo un livello veramente da va bene va bene cioè proprio da chi ha le unghie come le tue secondo te nell'umanità queste sono sbagliate il dovreste vedere lunghi ad alessio se io se mettessi lo smalto e vi facessi una ripesa solo delle lunghe ad alessio per voi al cento per cento sarebbero delle unghie da donna guarda se alessio oggi si mettesse lo smalto vi posso garantire che avete donne accanto a voi con le unghie più corte ci sfiletto il pesce giustamente con questo ci sfiletti pure il bovino allora non solo il pesce standard di solito sono mela banana e il mirtillo che stranamente si trova tutto l'anno tu quindi tagli anche il mirtillo cioè fai che fai un mirtillo come le perry per gli alcini d'uva quindi cioè la mela la fai spicchi o dividi poi lo spicchio divido uno cioè prendo calcola che più o meno è o mezza mela o un quarto di mela prendo il restante lo conservo per il giorno dopo non ti diventa nera un pochino è buonissima è una mela come la banana non la mangio tutta io se fai schifo piano e sangue ne mangio metà metto un po' di mirtilli che io compro e surgelo immediatamente certo perché tutti i mirtilli come lamponi quando li compri in un giorno fanno il vomito ma quelli lo sai perché secondo me li raccolgono 25 anni fa gli hanno messo in una cella frigorifera quindi appena escono in un istante si fa così proprio disintegra esatto e li metto bagno nell'acqua fredda nel tempo in cui taglio la frutta sono già perfettamente scongelati e quindi è mirtillo me la banana poi mi piacciono molto le pesche dipende dalla stagionalità della frutta e metto il latte è un po' quindi è un bicchiere di latte una ciotola di latte piena di frutta tagliata esatto è un bastone proprio da cane con la frutta è buonissimo tipo il cane ma lui si le forchette lo mangi anche con la bocca col cucchiaio no no il cucchiaio poi ci metto ovviamente i cereali e compro sempre un mix di quello l'apporto proteico il mix di frutta secca quello che anche con l'uvetta no 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 perché mangio la frutta il poi l'uvetta è praticamente solo quindi fai un bastone è buonissimo è buonissimo è buonissimo perché ogni ogni boccone ha un sapore diverso è come un'insalata e dopo prendo il caffè fumo una paglia perché il latte non lo yogurt come ti dicono tutti perché lo yogurt mi risulta stomachevole pesante cioè lo yogurt preferisco una cosa poi tu se non sbaglio perché mi ricordo quando mi invidi a cazzato bevi il latte quello totalmente scremato tipo parzialmente scremato che sa di acqua però lunga conservazione io prendo il latte più giorni sì sì lui prendi il latte parzialmente totalmente scremato più giorni che come bere l'acqua bianca esatto però però c'è una questione io non so che consumo tu abbia di latte ma a me essendo da solo facendomi una tazza non tutti i giorni perché alterno quello alle uova col bacon per esempio e ho bisogno che con la frutta che il latte no la variante cioè faccio salato e tipica colazione di chi non hanno un cazzo da fare e quindi il latte scusami patti troppo solo tutto questo per quel fisico di merda infatti infatti è preoccupato sono ingrassato molto perché ho puntato più ultimamente ho puntato più sulle uova il bacon che non sul latte con la frutta perché ma perché d'inverno d'inverno vuoi caldo esatto cioè il freddo ti arriva il freddo sul freddo poi casa è fredda sai quanto mi è arrivato di bolletta 540 senza me accendere no ci sono sempre stato in casa 540 è importante allora lì c'è scritto dal primo settembre al 31 dicembre però ho guardato però ho guardato il dettaglio settembre ottobre sono soltanto bolli e robe varie dici che cazzo vuol dire che senso soltanto bolli cioè ci sono delle piccole spese che non sono consumo di metano e quindi il consumo che sia solo novembre dicembre almeno quello che risulta magari forse l'avevi pagato in anticipo magari ti avevano fatto una prelettura quindi diciamo che ci sta che la prossima bolletta mi arrivi gennaio febbraio marzo aprile sì esatto speriamo ci sta ci sta è difficile quindi tutto nasceva dal ho fumato una paglia dopo il caffè ah sì esatto il mio caffè quando ci sta in tutto questo? Dopo faccio una moca da 2 barra 3 non so quale sia la dimensione? Sì dipende cioè sia da 2 che da 3 non lo so definire quella lì e la bevi dopo il pastone da cane e poi faccio una intera moca me la bevo pian piano lavorando guardando le serie film The Funkland giocando a scacchi Succession in due giorni e quello che mi fa male gli scacchi mi fanno male perché comincio a giocare a letto dico faccio due partite vado a letto era mezzanotte mi sono trovato alle 3 che fumavo delle paglie bevevo del whisky giocavo per no 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 non fumo in camera mi sono alzato per andare in sala a bere del whisky a quanti hello sei arrivato? sono quasi a 400 ammazza un bel punteggio ha detto che a mille ci sono i campioni allora una cosa che percepisco a mille ci sono i campioni mi dicevi? a mille ci sono quelli bravi cioè mi hanno detto il ragazzo che ho conosciuto mi ha detto che fino a mille quello che aveva scritto fino a mille ci dovrebbe arrivare abbastanza tranquillamente io non ce la faccio arrivo a 400 poi torno a 300 ma che cazzo volevo dire non mi ricordo più troppa troppa roba no se l'hai fumato sta sigaretta il mio fisico un po la rigettava addirittura? sì cioè sentivi fastidio durante? sì un brutto sapore sento un bruciore qua la trachea o roba del genere sono molto preoccupato tanto che sto pensando di ridurre io comunque fumo se non gioco a scacchi una decina di sigarette al giorno se gioco a scacchi arrivi al pacchetto ieri le tengo le controllo sono arrivato a 14 nella giornata 20 sono un pacchetto? sì vabbè quindi non arrivi al pacchetto beh però non è tantissimo un pacchetto di pacchi beh però comunque fai una vita molto movimentata ma stai molto in giro ci può stare? sono molto preoccupato il problema è che qualsiasi cosa mi generi ansia io la scarico con una sigaretta e qualsiasi pasto io consumi dopo mi fumo una sigaretta di questa cosa qua infatti il dottore qua che ha fatto la visita giovedì scorso mi ha detto vatti a fare una lastra dei polmoni sì sì infatti però ossigenavo a 97 e mi ha auscultato e ha detto non ci dovrei cioè non mi sembra che ci sia una lastra però una lastra non ci metti niente a farlo comunque dice a scuoled che dalla descrizione della tua giornata mi sembra strano che tu non sia pieno di donne dice ma è un problema schifanoia infatti io ho bisogno di cambiare aria cambiare aria assolutamente con quello che mangi da ingegnere ti consiglio un impianto a petotermia per riscaldare casa a scoreggia che probabilmente ci stai visto tanto mangi e piani sani fai un favore al mondo quando sarà ora dona il tuo corpo alla scienza e comunque appunto il mio fisico rigetta le sigarette adesso devo pensare stavo pensando di ridurre drasticamente non penso che smetterò perché non pensi di smettere né di passare al vaping comunque sono andato a letto alle 4 per giocare a scacchi mi vengono le palpitazioni perché ci giochi perché è adrenalina pura più adrenalina pura agli scacchi mi dà più adrenalina quella roba lì di quando giocavo i soldi a poker quando scopi non ho nessuna adrenalina quando giocavi a soldi a poker mi crea infini proprio non c'è paragone pensa giocare a soldi a scacchi probabilmente mi scoppierebbe il cuore mi scoppierebbe il cuore chiede schwarze che è da prima che lo continui a chiedere schwarze 23 scusami ecco cosa che volevo dire prima di questo una cosa che percepisco si chiama ludopatia dicono senza falsa modestia senza falsa modestia è quelli con cui gioco fino a 4,90 elo li considero come o inferiori a me come qualità del gioco ma io non reggo la pressione del finale di partita quando il tempo sta comincio a fare cazzate ah c'è l'angoscia del movimento perché probabilmente avevo troppa ansia certo però c'è come sviluppo della tavola e il movimento degli scacchi sei un campione no non sono un campione cioè se mettessi il tuo cervello in una persona più rilassata sì saresti dentro un computer sarei al fagò di google però perché non ti provi a drogare per giocare potrei provare con la cannabis legale degli ansiolitici la cannabis legale invece di fumare le baglie anche sì ti chiede swartz23 che è da prima che lo continua chiede se ti sei mai lavato il retto con una lavanda con la lavanda con una lavanda non ho fatto mai la lavanda gas con la lavanda la pianta tipo pennello no non ho mai fatto una lavanda gastrica no gastrica una lavanda una lavanda una lavanda ti prendi una lavanda una peretta eh sì lavato però non le perette quelle per cagare ah non quelle quelle per lavare quella l'ho fatto per lavare ma riguarda che è da grande fare le perette per cagare cioè c'è stata una roba per cui non so perché mi ricordo che mi avevano prescritto questa cosa qua mi sono fatto una peretta ma è anche piacevole sì anche piacevole l'inserimento o la lavanda in sé ma io posso parlare con te che mi dici è anche piacevole è una zona erogena ma perché se tu stimoli cioè guarda l'orgasmo anale per i bambini per i neonati è la normalità allora a parte che non esiste l'orgasmo anale è solo nella tua testa no non esiste l'orgasmo anale però per dire per dire adesso ti faccio l'orgasmo anale sono gli orifizi più o meno mangiare cagare quindi come esce entra e poi ti dirò però non mi ricordo dottore me ne prescrive un'altra non mi ricordo però perché ce ne ho ancora tipo ne avevo prese due me ne è bastata una e l'altra la tieni per il giorno ideale stai lì con quella peretta sul comodino che faccio stasera la peretta poi ci metto intorno lo scotch per farla diventa più grossa dai mi dici la lavanda vogliono sapere non ho mai fatto questa lavanda non mi sono mai però io mi lavo capita che mi possa lavare anche internamente l'ano questo è uno di quei classici casi in cui più si parla più è peggio ti consiglio il silenzio comunque fa molto ridere questa cosa che è anche piacevole orgasmo anale i bambini Alessio i bambini i bambini che hanno quella roba ma non si chiama orgasmo anale quella era la cosa che studiava Freud che era la gestione dello sfintere chiamatelo come ti fai il controllo della cacca è una fonte di piacere comunque entra esce non è un problema per chiudere Sanremo con Senno di Poi ti è piaciuto non ti è piaciuto le canzoni soprattutto l'hai guardato tutto l'hai guardato tranne la serata con le coppie con le cover scusa mi ho detto le coppie e le canzoni cioè sei d'accordo con la no perché a me quella roba lì fa vomitare io non sono fan di Blanco purtroppo e a me quelle canzoni proprio belle lense tutti uguali anche l'isa non mi è piaciuta è quello il problema secondo me c'è mi morandi non ne parlo neanche però bei pezzi è il problema è il problema dell'Eurovision una cosa bellissima dell'Eurovision non so se tu l'hai mai fatto non ci sono andato tu ci sei andato spesso all'Eurovision non è andato la cosa bella una cosa bella dell'Eurovision che tu non hai mai fatto che tu non hai mai fatto è andare su Youtube sì e andare a vedere le reaction degli internazionali alle entri italiane sì a solo alle entri italiane io guardo quello ah certo della reazione alle entri di Cipro certo ed è bellissimo perché capisci la percezione ovviamente una cosa senza nulla togliere minoranze e robe del genere sentiamo vai non so per quale ragione ma la maggior parte di quelli che fanno reaction sono o donne o gay pochi sono i maschi producer che fanno e cosa c'hai da dire a tutto questo no no per dire per dire che questo target è sensibile al alla ballata all'italiana meno cilindro ma perché quelli italiani solo i gay e le donne li guardano le canzoni italiane no quelli che fanno reaction internazionali io ho visto reaction internazionali o reaction alla musica italiana gli internazionali non mi interessano quelli che fanno reaction in Italia ok quindi i reaction di youtuber internazionali che fanno reaction di qualsiasi nazione ok sono donne gay in maggior parte però fanno reaction a tutte le canzoni o parli solo dei miei italiani loro a tutto a tutte le entri dell'audito ma sono ovviamente essendo e questo bisogna sempre stare attenti a non categorizzare ma diciamo che c'è una sensibilità differente una componente non mi imbarcherei in questo dibattito esatto non ci imbarchiamo però tendenzialmente vi posso dire che potete registrare questa tendenza quindi la canzone di Blanco e Mahmood ha tocca alcune di queste corde effettivamente vedi gente con loro loro fanno fanno già sulla vincetta sanno tutti questi stanno sul pezzo ah cioè sanno già che la vincetta di Sanremo sarà la Eurovision molti se la guardano addirittura si guardano Sanremo ok ma è bellissimo è una scena meravigliosa e che sono impazziti alla mamma del Blanco si ti vengono i brividi piangono e roba del genere senza capire niente o anche gente che sa l'italiano qualcuni capiscono l'italiano adesso hanno preso l'abitudine se Dio vuole mette sottotitoli sottotitoli in inglese esatto almeno nelle versioni e si sono esaltati con questa roba qua si però ci sono molte meno reaction come mi aspettavo o come ovviamente alla rappresentante di lista no molte meno reaction alla rappresentante di lista che non andrà all'Eurovision esatto ma chi segue Sanremo o chi potenzialmente guardava Sanremo in previsione dell'Eurovision preferiva di Gran Luga alla rappresentante di lista esatto c'è paragone non c'è il confronto quella modalità blondi quel funky groove ma perché in Italia il problema è che Blanco è troppo troppo forte in Italia quando entra anche il voto del pubblico è proprio già è andato votato bene dalla critica mi chiedo mi chiedo se questa canzone è all'Eurovision no ma come fa a vincere no è difficile dipende come come recepiscono come se cantassi Ranieri no però non è Ranieri c'è comunque c'è aspetta c'è una certa uniformità da quello che per chi ha Blanco gli scavi un po' le guance gli metti il cabello nel cazzo e diventa Ranieri però il il mentre mentre i Maneskin a livello internazionale su base rock potevano avere un audience veramente trasversale dall'est Europa la Russia l'America e roba del genere questo effettivamente ci vuole una certa affezione infatti sarei stato molto curioso che purtroppo non c'è stato cioè c'è stato solo a livello digitale come avrebbero reagito sarebbe stato un grande precedente alla canzone dell'anno scorso quella di come cazzo si chiama lo scorso ha vinto i Maneskin no l'anno prima perdonami a Diodato esatto quella di Diodato perché non è andato ci sono state le reaction però ha fatto quella roba all'arena di Verona per l'Eurovision tutti a piangere e roba del genere però non ha vinto ma comunque sarei stato molto curioso di vederla perform sullo stage dell'Eurovision e avere una dinamica sarebbe stato un buon precedente per capire come poteva andare questa qua ti dico semplicemente le reaction sono quasi al cento per cento bellissima ma è una canzone molto melenza che scassa il cazzo al tezzo ascolto già ti ha disintegrato i coglioni proprio come Lisa pur essendo molto banale ciao ciao però è allegra è bellissima poi c'ha quel bridge finale non è banale è bellissimo il bridge è bellissimo il giro di basso non è così banale è per quello che ti ho detto che l'arrangiamento radio edit era meglio di tutta l'ambaradan dell'orchestra quella canzone lì quella canzone lì è bellissima è bellissima il bridge finale è bellissimo il bridge finale mi ha ricordato non so se te lo ricordi pop porno che ha quel bridge e quando viene se beh però secondo me è più elaborato il bridge più che altro stacca tanto proprio con la canzone pur essendo sullo stesso giro è molto bello e quella secondo me era la canzone che avrebbe guarda magari non vinceva ma come ha fatto si è funzionata anche molto bassa si esatto stranamente magari non vinceva l'Eurovision però avrebbe fatto un po' di scalpore quanto meno sarebbe stata apprezzata come è stata apprezzata la canzoncina della scimmia che non mi ricordo più beh super canzone quella stravinto ma non ha vinto l'Eurovision però ha fatto è stato un elemento dello spettacolo molto 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 importante come si chiama lui? non ce lo dicono subito diteci come si chiama la canzone della scimmia l'autore occidentali scarma di Gabbani proprio memoria però stravinto quella ha vinto tutto ci ha rotto il cazzo fino a dopo l'estate quella canzone lì io non ascolto la radio perciò non ho capito basta che fai in giro ma la sentivo pure al mare la gente che la metteva vabbè veramente fa una vita di mezza cioè se sono al mare io di solito sono in una fiaggia all'estero e non c'è Gabbani te lo posso garantire beh discutiamone discutiamo allora 50 minuti di panini parete omosessuali e Sanremo si vado a farmi il caffè tieni ti ho acceso già il mac si il mac il pad il mac vuoi un caffè o no? vuoi lungo nero senza zucchero? non lo voglio come mai? perché ho già fumato la paglia a me serve solo per fumare le paglie il caffè non mi piace il caffè non mi dà nessuna soddisfazione quindi tu la moca e ti fai il mattino è solo per fumare? si che vita allora ragazzi quindi vi lascio anch'io 4 minuti di si lungo e nero io di solito lo prendo lungo e nero e senza zucchero perché mi piace amaro mi piace prenderlo amaro con una lacrima Sanremo è stato un lungo primo maggio LGBT vabbè queste polemiche lasciamone stare cioè effettivamente ecco per esempio dopo lo chiediamo anche a Pierpaolo come se gli è piaciuto il monologo di Drusilla Foer Faer e robe del genere guardate non voglio scatenare l'inferno ma voglio dire una cosa e qua mi appello alla comunità LGBT a Bicocca se ci senti io ho bisogno di sapere che cosa ne pensi o robe del genere se lei dice che diversità è la parola sbagliata parliamo di unicità dell'individuo e sono totalmente d'accordo siamo individui unici e perfetti come si incardina la transizione nell'accettazione dell'unicità cioè se io ho una certa sensibilità una certa personalità il mio corpo che è un dato non è una variabile o almeno dovrebbe è un dato nel senso che ti viene dato puoi farci quello che ti pare ti puoi vestire diverso cambiare i capelli cambiare sesso puoi fare quello che ti pare e non voglio più parlare le cose però puoi cambiare le cose ma se uno cioè se uno è quell'unicum non può essere che è la società paradossalmente che dà un imprinting talmente forte da spingere alla transizione proprio perché c'è una percezione che ci debba essere una coerenza tra l'interiorità e l'esteriorità quando in realtà quando in realtà l'unicità dovrebbe essere tale cioè io vorrei un mondo dove non ci sia bisogno della transizione perché la variabile estetica è talmente ininfluente calcolando che poi non si può cambiare nelle meccaniche ultime nella biologia è solo una questione che ha una componente di superficialità che non può arrivare alla genetica almeno allo stato attuale e quindi non riesco a capire cioè preferirei una società dove non ci sia questa pulsione a dover fare la transizione che secondo me è socialmente indotta ma dovremmo invitare a Bicocca o qualcun altro per sapere cosa ne pensano e spiegarcelo Pierpaolo tu l'hai sentito abbiamo vinto l'oro al curling abbiamo vinto l'oro al curling ti voglio dire questa cosa qua la ripeto anche se tu l'hai sentito il monologo di Drusilla ti voglio chiedere questa cosa molto pericolosa per la comunità LGBT e al massimo chiamiamo a Bicocca a parlarne e robe del genere sarebbe bello fare una nuova live con Bicocca tanto non la sento il problema è che noi facciamo gaming non è che tutte le volte lei parla sistematicamente di qualcosa poi ho scoperto ho scoperto che a Bicocca non è quello che dice di essere ci sono rimasto malissimo che senso non avevo capito che c'era questo mismatch entra nel dettaglio che significa è una gattara è una gattara maledetta è una gattara piena di gatti che girano sto scherzando Drusilla Foer parla di sostituire la parola diversità con unicità ed è apprezzabilissimo la semantica che può aver senso ma il fatto quando tu parli di unicità questo vuol dire che tu nasci con una certa sensibilità una certa personalità in un corpo secondo te la necessità della transizione può essere socialmente indotta e invece dovremmo vivere in una società dove questa discrasia fra l'interno e l'esterno in realtà non è una discrasia per me se tu ti senti diverso dal corpo se non ti senti col corpo perché tu vuoi avere gli organi femminili o perché vuoi avere dei connotati femminili ma non pensi che sia socialmente indotto non è socialmente indotto perché la differenza fra uomo e donna vuole il seno più grande la differenza fra uomo e donna è in natura non è socialmente indotta quindi per me trovo normale che ci possa essere uno che a livello di genere è un uomo ma si sente una donna ma perché hai bisogno hai bisogno dei connotati tipici ma perché non pensi che quella sia una questione che nasce dalla persona per me no a parte che siamo creature sociali quindi ma per me no tutte queste cose qua c'è la componente sociale non puoi escluderla cioè dire che siamo in natura roba del genere cioè la questione è se tu nasci diciamo potenzialmente trans in un'isola deserta ok potenzialmente trans che significa se tu nasci in un'isola in un'isola potenzialmente e sei trans ok tu nasci in un'isola deserta o arrivi su un'isola deserta non hai la fase educativa sociale secondo te uno che nasce così gli viene la percezione o dovrei cambiare sesso non mi sento appartenere al mio sesso ma non è un problema sociale è un problema se non vedi nessuna donna probabilmente non ti vede se vedi una donna secondo me sì è normale che ti venga perché tu ti riconosci vedi il tuo corpo che è differente da quella della donna è quello che ti sto dicendo è in natura non è sociale no eh sì no in natura ti spiego in natura fai la cacca che tu nasci in natura c'è anche la differenza fra uomo e donna fammi finire in natura fammi finire tu nasci sull'isola deserta naturalmente fai la cacca ok per avere lo stimolo di cui parliamo del passaggio trans devi avere un riferimento esterno quindi si chiama sociale no non si chiama sociale è la natura stessa non c'è una componente sociale no perché la cacca la fai indipendentemente che ci sia qualcuno intorno mentre la necessità della transizione ce l'hai perché hai un referente esterno in cui ti identifichi per qualche ragione no ti ripeto che non sono d'accordo con te che questo rientri in una cosa sociale è comunque una cosa di natura quando ci sono due individui non c'è un rapporto sociale c'è anche semplicemente l'osservazione in natura di un essere diverso da te ma quello che ti sto e quindi però voglio che rifletti non c'è una componente sociale di interazione però voglio che rifletti ma io ho riflettuto siccome siccome questo stimolo nasce semplicemente con un confronto nell'altro per forza perché a te ti non sai che dell'altra esistenza il confronto è fondamentale della conoscenza e quindi siccome siccome questo non mi fai finire una frase veramente è finito sempre e non posso mai rispondere hai finito 40 ma perché continui a ripetere la stessa cosa hai finito 60 frasi e non rispondo mai per cui vai siccome questa necessità nasce da un confronto con l'altro è per definizione sociale su questo non voglio neanche discutere per definizione per me no poi naturalmente tu sei una persona con una certa personalità che comunque dovrebbe essere anche costruita anche quella nel sociale perché da solo nella giungla avrai una personalità completamente diversa però ti emerge qualcosa non sentirai mai la necessità della transizione perché tu sei quell'individuo come parla la foer sei unico sei così e hai quel corpo e quella personalità la necessità della transizione non riesco a capire cioè io preferisco una società un mondo dove non ci sia la pulsione e la transizione proprio perché l'unicità è apprezzata in quanto tale così come come si esprime invece quella necessità secondo me è una pressione di qualche tipo che non so indagare andrebbe indagata che secondo me in una società tranquilla con accettazione totale non avverrebbe per me no per te no però come argomenti riduci riduci che se uno si sente diverso dal corpo che lo esprime disforia di genere è una scelta della società per me no per me è una cosa individuale non è una scelta è imposto dalla società non è imposto è conseguente della società per me no perché per me è individuale non è conseguente della società però quello che ti dico cioè sei d'accordo con quello che ti dico che se naci nell'isola deserta non hai un referente percepisci che il tuo corpo in qualche modo probabilmente non ti rappresenta o hai un'incongruenza ma questa te la sei appena inventata no io sono convinto di questo cioè tu ti senti ma neanche te nessun elemento per cui abbiamo lo stesso valore di non elementi per me percepisci che qualcosa nel tuo corpo non rispecchia il tuo desiderio o le tue convinzioni probabilmente finché non vedi un corpo diverso da te non puoi ambire a qualcos'altro nel momento in cui ti riconosci che c'è una diversità cioè oh cazzo non sono tutti identici a me ma c'è anche un'altra possibilità magari ti si stimola l'idea la volontà la percezione ad andare incontro a quell'altra identità posso dire posso dire che semplicemente non è che devi avere un confronto sociale mettiamo anche che questa questa possa essere vera cioè possa possa essere un'ipotesi accettabile da indagare concordi che anche la mia è un'ipotesi che andrebbe indagata senza pregiudizi perché secondo me il tuo è per forza figlio di un pregiudizio ma che pregiudizio io non ho pregiudizio non ci possa essere l'idea che una persona a livello individuale intimo possa aver bisogno di altro ma sia sempre sei matto è sempre la società ma pensa a me ma ti sembra scusami dal tuo punto di vista è la società che ti porta a conoscere il fatto che ci sia un altro scusami guardami secondo te io voglio vivere in questo corpo secondo te questo è il mio corpo mi rappresenta sai che però tu hai un'aspirazione che potresti soddisfare se ti impegnassi no tu preso porre il fatto che il tu che non ti piace la cosa è solo per colpa della società per me non è così come faccio a essere ma tu sei convinto che il fatto che tu non ti trovi bene col tuo corpo è per colpa della società perché la società ti impone assolutamente per me non è così è una grandissima componente che è diverso una parte è un conto che sia esclusivamente imposto dalla società no è la mia è un altro conto la mia insoddisfazione è socialmente indotta ma per me non è così perché io posso tranquillamente non rispecchiarmi nel mio corpo e volermi più muscoloso o più magro o più basso non per questione della società gli animali si interroghino gli animali non hanno il raziocinio ma appunto è roba è roba è roba completamente una sovrastruttura culturale sociale non è vero per me è pensiero per parte del pensiero razionale per me la prossima volta entrerò dopo un'ora giochiamo giochiamo avete robito il caso cioè la gente c'era uno che si lamentava e diceva non capisco quegli idioti a parte che non capisco quegli idioti che donano indipendentemente da ma non capisco gli idioti che donano per Resident Evil Village nulla live dove non si gioca Resident Evil Village che dobbiamo fa? devo giocare io ero andato in chiesa perché dovevi boh sei qui guarda tieni la casa col comignolo rosso devi trovare no no la parte io io gioco solo dove c'è giocare io mi hai detto sì ma dove c'è della sfida e ti dico faccio come te con Bloodborne tutto tutto l'hai detto ieri l'hai detto testuali parole che purtroppo il mio messaggio si è diluito nella gente che diceva grande roba del genere che rispondevi ma le cure ce le ho perché non le devo usare le armi ce le ho perché non le devo usare non è così l'hai detto pari pari questo è un survival horror non c'entra in casa quello là no non è un survival horror no non è un survival horror che Bloodborne è un survival horror sì è un survival horror se la gente ti sente gli via l'interizia se ti sentono di sta stronzata devi sopravvivere ed è un gioco dell'orrore io continuo a non capire perché vi seccate che non giocano eh bravo se tu hai perché ci sono i polli e me lo indica vedi mi indica pollo sulla mappa ragazzi cosa si fa con i polli si raccolgono uno se ne va perché abbiamo finito di parlare li puoi mangiare li puoi uccidere sì sì devi sparargli però sparargli un colpo di pistola e poi però non lo posso bello e cosa ci fai li consiglio al duca che cos'è quella roba lì per terra che cos'era che cos'era quella roba ora lo raccolgo aspetta mi ricordi Sylvester Stallone in Rocky hai visto sei proprio alla stessa velocità intanto guarda come l'ho azzeccato era già zoppo l'ho massacrato comunque è un gioco violento è insopportabile questo trend nei giochi di andare in giro uccidere gli animali io non sono mi va bene che tante simulazioni sti cazzi però tendenzialmente è diseducativo guarda i final fantasy o robe del genere i pokemon va in giro per dei parchi ci sono degli animali che si fanno i cazzi loro o li uccidi o li catturi non è il massimo pensa Monster Hunter che entri nell'ecosistema e lo distruggi esatto è proprio la cosa più diseducativa dell'universo infatti Monster Hunter ha messo quella quella dinamica di gameplay dove c'è l'attacco al forte allora l'indifesa posso anche capirlo però andare in giro a cercare gli animali per ucciderli è veramente l'hunting poi benvenga che sia digitale è vivo non sono un amante non venga che sia digitale è vivo è viva non sono un amante della caccia però mi piace mangiare la caccia giovane fai cagare te infatti e comunque non sono contro la caccia però tendenzialmente non è qualcosa che farei state attenti che arriva Mattia come faccio a entrare qui non so chi sia Mattia non c'è neanche probabilmente ci arrivi da sotto da sotto? sì probabile se lì non c'è una serratura o si apre o si apre con un meccanismo da un'altra parte controlla se c'è un cavo che va in una casa comunque ti dicono che nemmeno qui come in Bloodborne hai metodo per esplorale esplorale? sì alza l'audio di gioco Pierpaolo molto alto l'audio di gioco diteci se è abbastanza alto ragazzi si apre da solo più avanti comunque dicevano a che difficoltà stiamo giocando Pierpaolo normale? normale credo credo normale abbiamo i Grimaldelli? Alessio ti senti più preda o predatore? preda totale proprio sono veramente imbelle ah Pierpa ricordati la casa con il comignolo verde eh lo so il comignolo rosso ma non mi ricordo tutto cazzo qua c'eravamo già venuti vero? penso di avere il cancro per Paolo come si accendeva la luce? senti senti che ho anche un fischio strano come si accendeva la luce? come si accendeva la luce? scusami ma io ti sto dicendo che sto morendo e tu mi dici come si accendeva la luce? come mi sembri semplicemente la tosse di un orecchio non mi sembra la tosse di un vecchio non mi sembra la tosse di un malato ragazzi sto malissimo la luce si accende da sola comunque per Paola c'hai la pormonite trilaterale ragazzi facciamo una raccolta fondi hai visto change.org? vabbè che sono 15.000 firme però c'è erano già partite delle delle petizioni per il rimborso totale anche per Cyberpunk era partita la petizione su change per il rimborso totale a tutti indistintamente senza richieste per avanti Battlefield 2014 ah no non l'ho vista mi sono persa è partita la petizione ma già si fa il rimborso pure Steam ormai no però ti dicono evidentemente ci sono delle variabili invece dicono di abbattere qualsiasi tipo di variabile chiunque deve poter ottenere il rimborso senza rotture di cazzo ah abbiamo fatto tutto il giro qua ma me lo ricordo comunque se la situazione di Electronic Arts da quel punto non è il top Alessio ha recentemente giocato What Remains Od Edith Finch mai provato ce l'ho ma non l'ho giocato che bello come ho fatto a romperti il cazzo What Remains Od Edith Finch è veramente un uomo pessimo che veramente non capisce un cazzo no l'unica cosa giocherei ma non ce l'ho quello com'è che si chiamava quello in 5 episodi che ci ha messo 10 anni ah Kentucky Ross Zero esatto quello lì mi interessava un po' di più ma probabilmente mi romperai il cazzo mamma mia incredibile guarda guarda da lontano l'ho tirato su cioè ti rendi conto datemi una leva e vi solleverò il caterpillar mamma mia incredibile che cazzo era sei saltato pure tu ma mi hai fatto saltare tu puoi saltare in quel modo ma puoi saltare in quel modo ho saltato almeno mezzo secondo dopo di te ma hai fatto via un colpo ma cosa è successo è caduto tu sarà caduto questo qua non ci parla di lì per cadere cosa è successo ho tirato sull'ascensore il trattore non funziona ancora l'ascensore qua in ufficio lo aggiustano e la settimana dopo non va ho dovuto fare le scale Pier quanto è difficile giocare con Alessio che ti parla in continuazione impossibile impossibile state scherzando andate a vedere le clip delle puntate precedenti mamma mia dove ho lui che mi urla qua madonna che colpo mamma mia ma chi cazzo sono mi dà anche del lei lui quando è morto hai visto bababia perca troia un cacciatore come fai ad essere così bravo in tutti un cacciatore ma guarda che se tu ci fai una riflessione c'è un cacciatore aggressivo proprio però ti ho visto giocare a Rainbow Six fai abbastanza cagare a Rainbow Six X fai molto cagare a Rainbow Six X Rainbow Six Siege che quello è difficile contro altri giocatori oh siamo ritornati all'inizio Ale ah sei un campione del PvE sono un campione esatto contro il computer che famo qua ci siamo andati andiamo a esplorare ragazzi non abbiamo ma perché non togliete la censura ragazzi abbiamo una versione che è censurata quella che dicono essere giapponese che veniva probabilmente rilasciata però lui dice di averla comprata normalmente o ci stanno le Capres l'hai comprata su Steam si può essere che quello che tu hai accesso quando li compri a delle versioni redazionali si certo allora vedi probabilmente è la roba redazionale e purtroppo non ci possiamo fare niente ci dicono che ci abbiamo delle mani in più ci abbiamo sangue in meno sti cazzi tanto il gioco è sempre quella solfa che fa Balacabra mortacci tua ma che cazzo fa però l'hai schivato il maiale ma che cazzo fa ma può uscire a quel modo aveva paura poverino ma che cazzo e adesso va a mangiare ma perché ma che cazzo ma mi può fare una corsa in quel modo aspetta tu mi dici il maiale che abbatti con una coltellata nel culo quello si sarebbe girato ti avrebbe sbranato e ti avrebbe mangiato le ossa ma non è normale che corri in quel modo ma quale maiale va in quel modo lì sì ma non puoi però vendicarti di un animale ma certo mi vendico di un animale io ho un cane quando vado a correre che mi sta attaccando ha cominciato a mordermi i garetti eh per me gli spacchi il culo no perché non è colpa sua tu sei il garetti poi i garetti per quelli il tallone si chiama tallone non si chiama il garetti penso che ci sia qualcosa di legato agli scarponi alle rotelle ma poi metti il garetti i garetti mai sentito da noi a modena si chiamano garetti e penso che abbia a che fare con com'è che si chiamano con le rotelle dei cowboy le rotelle dei cowboy gli speroni eh gli speroni penso che abbia a che fare con quella cosa lì le famose rotelle dei cowboy no garetti è italiano dicono controllate controllate veramente controllate veramente se c'è un dizionario ragazzi anzi controllo perché a questo punto mi avete dato io non capisco un cazzo continuo a perdermi per strada garretto ma si dice per i cavalli infatti ha a che fare con i cavalli il garretto secondo me la gente si confonde garretti sta dicendo no il garretti non l'ho mai sentito forse il garretto che esiste ma cos'è il garretto al garretto guarda tu nonna che è morta mica l'avevo vista pora nonna qua l'avevi vista te pora nonna garretto si chiama non garretto garretto e sono degli animali la parte fra la gamba la tibia e il metatarso perché si fa al garretto quindi è quella specie di spunzone che hanno i cani che hanno gli animali evidentemente e appunto probabilmente si dice la stessa cosa allora non arrivava dai cowboy ma dalla tradizione contadina contadina emiliano romagnola non mi ricordo neanche perché parlavamo di garretti che ho scoperto garretti garretti perché parlavamo di garretti ah che mi morde e io non picchio il cane io tento di abbonire il cane perché il cane non ha responsabilità abolire abbonire io non capisco che qua mi dice come se non ho raccolto qualcosa hai ucciso il maiale sì che poi secondo me questa è una capra non è un maiale no è chiaramente un maiale quadrupede quadrupede mi sembra una capra però è un maiale stai guardando la chat almeno ah è stata una mano di D è candidata agli oscar alessio candidato ufficialmente agli oscar sì ma non ci credo che possa vincere beh però è candidato intanto sti cazzi come sti cazzi mi dai una mano a trovare qua quello che manca che altro mi guarderò quali sono i completi sentite gli altri esatto candidati agli oscar il miglior film e miglior regia no in realtà volevo sapere gli altri film straniero secondo me esatto esatto drive my car secondo me potenzialmente qual è drive my car non l'ho visto non so se è giapponese o coreano filo giapponese in un modo schifoso molto 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 bello molto molto bello dura circa tre orette è in tre lingue diverse salutiamo a Bicocca che ci è venuto a salutare ciao ragazzi saputo che mi cercavate ciao Abbi allora ho detto delle ha detto delle delle robe clamorose su cui però è molto interessante discutere dicevamo se ti andavo no no aspetta intanto è semplicemente ti mando il link quando abbiamo finito sta live inutile parliamone in una parliamone in una live sì però almeno la contestualizziamo cioè ma spie puoi spiegare che magari mi dice non voglio finire perché sei un sei un nazista di merda quello però è indipendente lo accetterei è sempre super aperta al dialogo maledetta maledetta gattara sentimi maledetta gattara spieghi la questione che vogliamo invitarla ufficialmente di nuovo al corto al corto però ci vuole un pretesto videoludico cioè non c'è niente da fare invece dovremmo trovare il modo di parlare di quella cosa lì pubblicamente però insomma ti mando il link con il momento così mi dici se è qualcosa di cui possiamo parlare anche nel tuo canale magari veniamo a parlare perché no perché magari a lei non gli è frega un cazzo di parlare con due con due imbecilli pieni di pregiudizi e totalmente ignoranti no però insomma ti mando il link e poi dopo mi dici tu se è una cosa che mi puoi spiegare grazie mille di essere passata un abbraccio un bacio miglior film Belfast Coda che non ho visto Don't Look Up non ha senso Drive My Car ah cioè ma come miglior film Drive My Car eh può essere può rientrare anche nel miglior film ma non è in inglese anche se è straniero no deve essere in lingua inglese hanno cambiato le lingue è anche stato la mano di Dio fra i miglior film sarà il miglior film straniero no allora non mi hanno detto miglior film in generale ma non può come no guarda che già l'avano cambiato da un po' quella cosa lì scusate mi confermate che è cambiata sta roba non ha più risposto Parasite però aveva non ha più risposto aveva una condizione eh vedi straniero purtroppo non ha più risposto Parasite ha vinto miglior film ma aveva delle condizioni particolari non ha più risposto a Bicocca non lo so purtroppo non si capisce niente dopo è scontato che registri il messaggio poi dice sì sì mi sono già rotto il cazzo mandami quella roba però insomma ti mando il link a Bicocca Lucchetto dicono che nell'inventario non hai il fucile a pompa è possibile eccolo Drive My Car è miglior film e miglior film straniero eh te l'ho detto guarda che da un po' che hanno levato no ma deve avere qualcosa a che fare tipo con la produzione no ma non è mo chi cazzo è questo ma chi cazzo è mo il pompa perché non usi il pompa perché non usi il pompa perché non usi il pompa non gli stai facendo niente andiamo a vedere se adesso non gli faccio niente vieni qua ma è tutto di ferro paragli in faccia non si fa niente c'ha la mazza paragli in faccia c'ha il sangue c'ha il sangue no non hai piedi non hai piedi perché hai piedi oh ah gli hai tirato via il adesso la testa gli tiro via guarda che pezzo di merda oh comunque pericoloso zero sto becilla mamma mia ma chi cazzo è l'hai finito con una pallottola in mezzo agli occhi beh perché quella là prendi questo schiva questa miglior film non ha condizione di lingua produzione straniera ma da quando ragazzi sono un po' di anni già Alessio tu non te lo ricordi perché sei un po' ignorante ultimamente sul cinema ma è da parecchio ormai no aspetta posso essere ignorante sei un po' ignorante sulle regole degli oscar no 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 cioè il cinema lasciamo perdere proprio no 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 multiplayer io sono sempre disponibile mandatemi quello che volete grazie foricino l'ha mandato ragnetta per abicocca grazie mille perché non l'avevamo letto grazie dobbiamo invitarla di nuovo ci dobbiamo inventare una minchiata un pretesto quello secondo te è uno tantum o è permanent è una tantum non è uno tantum che cos'è uno tantum come uno il gioco o che sto andando avanti come poco altro al mondo Ale mi insegni a editare le foto in modo da sembrare degli utenti del cert che cos'è il cert che cos'è il cert Pierpaolo dicono che faranno una raccolta fondi per farti giocare a Resident Evil 4 in VR ma è proprio guarda no impossibile è oltre il concetto dell'impossibile però sarebbe figo te l'avevo proposto ma non sei curioso guarda qua pure questa incredibile ma se tu ci fai una riflessione è assurdo pensare quante ne abbia aperte Giuppi Giuppi Don't Look Up mi è piaciuto ovviamente perché è una bella commedia mi sembra che tutto l'entusiasmo sia completamente senza senso anche se Di Capio come al solito lo trovo veramente bravo cioè gli attori erano quasi tutti bravi tutti bravi anzi però insomma un entusiasmo ingiustificato vista la prolungata assenza degli utaio tengo in custodia le chiavi della sua casa rivolgetevi a me in caso di necessità cordiale saluti Joseph Simon giardiniere di Casa Benevento quindi lui tiene la chiave dentro si la chiave del violino eh? tiene lui la chiave del violino degli utaio il giardiniere di Benevento e dove è il giardiniere? dove si trova la casa del giardiniere di Benevento? non lo sappiamo sicuramente a Benevento a Benevento Benevento Alessio che cazzo è Benevento? la Benevento dell'Andalusia la casa di Benevento raga comunque Resident Village richiamo molto Resident Evil 4 non lo metto in dubbio a parte che uno che TPS questo qua è in prima persona chi cazzo c'è qui dentro? la componente VR per Paolo non so quanto sarebbe chi cazzo c'è qui dentro Alè? chi è? vedi è la gente è la gente che dice Don Luca ha molto senso se si pensa al messaggio ma che messaggio è? semplicemente la gente è idiota i social sono un problema le fake news sono la vita basta infatti non parliamo di cinema perché se no mi fate incazzare poi soprattutto c'è andare a trovare il terzo livello da Luca ma entri? no perché c'è qualcuno ma non lì dentro sì sì è qui dentro al 100% ma perché vai col pompa vai con la pistola vai col coltello pezzo di merda mi sto armando vai col coltello ma chi è secondo te vai te sei appena giri l'angolo stai te appena giri l'angolo vai in testa Alessio in testa no continua a colpire le assi sì è sparato 38 colpi per colpirlo 6 colpi è sparato avrò sprecato una pallottola e comunque non mi ha toccato dove vai dove vai dove vai non sto andando ci stanno guardando per terra non c'è niente qui di là c'è la munizione ma come cammini dove la porta perché ti muovi così male non lo so che cos'è il corpo di Madalyn Madalyn è nostra figlia è una bambola è una bambola ho sentito un rumore come di qualcuno che cammini senti quando giri su te stesso sto per vomitare con questi movimenti da quando il muro è un nemico sì sono io adesso spero che ha letto tu sia più preciso se no fare l'amore con un comodino di solito io tendo a stare fermo preparate le pastiglie per il mal di ah se uno a cui piace che la donna sta sopra e si muove mi piace molto 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 che schifo tutto quello che unisce il piacere alla pigriza tutto quello a grasso mentre lei si muove al sesso non puoi dire nulla molto molto preferisci una peretta o la donna sopra che si muove cioè non c'è paragono la peretta dove vado minchia me l'immagino fermo mummificato che schifo dove devo andare questa era la casa del iutaio no no la casa del iutaio ce l'abbiamo fatta adesso fermo fermo la chiave del bene non puoi devi andare là dentro guarda a sinistra a sinistra sinistra là esattamente lì passi da quella porta blu che ho appena aperto io devo andare dall'occhetto blu no blu sotto blu sotto quella porta lì dietro di me e poi quell'altra blu esatto e dove vado non lo so andiamo là dentro quindi è dritto di qua alessio uguale la sposa cadavere prima era più difficile vedere un film straniero perché doveva rimanere nelle sale per una settimana minimo poi come si mette la mano della california per questo prima erano più marcati tra miglior straniero e miglior film in generale adesso vabbè volevo mettere la mano dai però Alessio cioè però veramente Alessio continui a sprecare dimmi qual è il pulsante della mano cioè continui a sprecare roba io veramente non so più come dirtelo cioè è tutto uno spreco è veramente tutto uno spreco volevo mettere la mano dai però che cazzo uno fatica uno fatica tanto per accogliere l'erba poi ricarichiamo no ma lo ricarichiamo però che cazzo ogni volta cioè io non mi faccio mai colpire sono perfettamente in salute entra che cazzo però c'è rumore di gente e non sprecare munizioni cazzo però ma che cazzo devi spaccare una cassa con la munizione non so eh dai veramente con proiettile per spaccare una cazzo di cosa dai però per Diana eh fai i select select dai eh mo possiamo aprire tutti i pozzi hai preso la ruota del pozzo potresti aprire i pozzi però sali su perché c'era un pozzo lì che abbiamo mancato dimmi dove andare dimmi dove vado ormai indiette sali sulla scala qua appena è esci dalla porta a sinistra c'è una scala sinistra quella è destra sinistra sinistra c'è una scala sali su che vai alla scala col comigno vai alla casa col comigno che cazzo però eh il concetto di survival horror come ti scrivo in in chat è che bisogna dosare i consumabili ma se sbaglio bottone ma potete rompere il cazzo 22 con i giochi che da 15 anni c'erano sempre i stessi bottoni perché tu mi fai giocare un gioco ogni due settimane che cazzo però porca troia la prossima cassa distruggirà con la bomba artigianale ti dicono raccogli ci stanno le galline dove stanno passaranno a terra o sono sui tetti vanno anche sui tetti dei pollai le galline ti sembra un pollaio questa roba qua affacciati senza cadere vedi intanto ma non ci vado adesso come no quello devi andare devi andare attento che sarà pieno di nemici qua bochecadis ma quindi mi butto sì sì scendi non ti fai male Alessio scendi no 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 non li a sparare prendi il coltello come si fa giù no sinistra vai cecchino bravo ecco Rambo 2 invece io ero Rambo 1 tu neanche li riesci più a sono tre eh vai bravo è lento vai ok uno l'hai preso poi bravo 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 ma non capisco dove bisogna mirare alla gallina magari che ne dici prendi il pollo perché non l'ha raccolto perché non l'hai raccolto sei lento gli altri sono scopati ah 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 ok e l'altro ah erano due qua destra destra non c'entro destra si metti la pistola per sicurezza su perché dovrebbe esserci uno qua che fa la cacca un ligato magari si sta a fare la peretta ti dice gradisci gradisce erano tre comunque si si erano tre le galline lo sappiamo lui ha un problema gravissimo col contare però non si vede niente qui dentro oh ah no adesso arriva la guardia di Skyrim per arrestare quindi cosa faccio adesso salgo qui no 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 si è appena sceso sono sceso da qui questa ragazzi è la casa col covignolo rosso raccolgo tutto no cioè assolutamente ho anche della competenza vuoi fare del crafting no 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 non serve devo fare qualcos'altro Pierpa non dire destra e sinistra fai dei cartelli con la manona vai lì salgo la scala che tipo di preservativi usi chiedono a caso mi compro al Lidl oggi c'è oggi abbiamo oggi abbiamo un nostro fan oggi abbiamo un nostro fan che si chiama tua madre 09099 che ci insulta da prima cosa ti ho detto salgo la scala poi salista la scala infatti è finta è un cazzo di scafalatura chiedono se sono preservativi silver crest sarebbero troppo tecnologici aspetta 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 c'era una scaletta sul tetto della cassa dove ho ucciso le galline allora quello va salito infatti io sono sceso da qua hai ragione hai ragione scusami non pensavo ti chiedo scusa chiedo se sono quelli della Lidl gialli e blu non lo so non lo so ragazzi non ci guardo sono preservativi però erano ritardanti per lui ritardanti per lui destra come mai non li prendi fermo fermo come mai non li prendi ritardanti per lei se non è il dramma non finirà mai tipo mi ritrovi morto consumato tutto rinzeccolino alza alza su alzalo su ma perché vediamo se ci sono raccoglibili ma non entra in questo boom no non devo scendo di là no no ritornaggi finisci di esplorare l'esterno perché ci hanno fatto salire di qua mi butto si si vai vai ma muoio ma che ti fa muoio alto un metro c'è sceso le scale scendo le scale allora prima di tutto vai apri il cancello entra qua dentro la porta questa qua è quella che ho aperto si vai entra dentro perché io non voglio manco mette l'audio cerca di raccogliere perché c'è un buco qua non lo so da dove puoi entrare se puoi entrare ah questa l'ho capito qual è quella io prima ce l'ho entrato metti select 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 infatti questa già l'ho esplorata io vai adesso vai aprire il cancello lì giù ah che praticamente adesso abbiamo aperto tutti gli accessi come bloodborne bravo apri il cancello grosso a destra a destra quello grosso aprirò non è pericoloso aprire un cancello grosso no prima apri il cancello grosso no perché questo era chiuso da fuori esatto così l'hai sbloccato perfetto adesso puoi entrare nella casa dalla casa entro da qui o salgo il tetto è chiuso all'altro lato allora vai da sopra dal tetto vai cadi dal tetto dovete scendere dal tetto ritardanti per lui e ubriacanti per lei anestetizzanti per lei tipo lo scoop che schifo puoi entrare nella casa dalla casa entro dice l'ele 83 che porta lui i preservativi entro o porta lei perché vedete non sappiamo l'ele loro l'ele cos'è secondo te chiaramente ma un femminile non potrebbe esserci con l'ele no no non esistono ci sono dei nomi che finiscono in femminili in italiano via vede denise in italiano infatti già specificato perché se vai all'estero puoi trovare cazzo di ritardo oh cazzo salutiamo il signor distruggere che mi dice di avermi scritto su instagram perdonami signor distruggere da un po' che non controllo eccolo magari c'è chiesto vaffanculo assolutamente sì assolutamente sì vince assolutamente sì ti mando un messaggino perché vincenzo hai detto signor distruggere poi chi parli ha un nome lo sai che non si chiama si chiama signor e ti vogliono distruggere si chiama vincenzo di nome vabbè vai vai girati ma magari voleva tenerlo segreto magari era una vita non è che è un nome così particolare che rimane nascosto nell'esistenza comunque è un cattivo lo ucciso col coltello no 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 col coltello ti rompe il culo perché è un altro di quelli potenziati quindi pompa se è quello potenziato devo usare il pompa allora mettilo ma si veloce a switchare la pistola se scopri che non è un potenziato no esatto quindi è così no su su Lele conferma che è una donna Alessio Lele 83 conferma che è una donna dai 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 vabbè si sa perché è da facile Lele è il diminutivo di Eleonora tiè becca di questo non è possibile no no che stai facendo uccido Alessio stai sparando a tutto un colpo sbagliato tutto no hai sparato sette colpi un colpo vogliono con quattro quindi tre le spiegate un colpo conferma sono Emanuela Emanuela 83 ma scusa perché non è possibile allora Lele 83 manda un messaggio con la foto del viso dal tuo account Instagram perché la foto del viso vado su figa.com cioè che cazzo ci vuole Emanuela.com è incredibile sta roba fai cagare leggi 1 febbraio sacrificate due capre a madre Miranda 3 febbraio offerta lana a madre Miranda mi ha dato un elenco di farmaci e strumenti incaricandomi di procurarle tutto nei prossimi giorni a cosa le serviranno 8 febbraio nessun messaggio da madre Miranda il bestiame è sempre più agitato pensa se cioè tu celebrassi Dio comunque tu avessi il tuo Dio tu vai e gli sacrifici la volta dopo si presenta lui con una lista di robe da comprare ma capito ma sei cazzo Dio ma vattene a procurare da solo la roba ma che cazzo è ma che Dio sei ma che Dio sei ma tu hai la visione distorta del Dio ma che cos'è 9 febbraio ho ricevuto l'ordine di consegnare tutto alla chiesa nella caverna all'alba ma quello che ho visto lì è stato spaventoso fai veramente non sai così ti fai veramente male ti fai proprio male a tutto poi i quattro signori erano lì e madre Miranda aveva in braccio una bambina ha sussurrato qualcosa e l'ha toccata non so come spiegarlo ma la bambina si è trasformata in una sorta di cristallo bianco e poi non ho potuto evitare di chiederle perché facesse una cosa del genere madre Miranda mi ha sorriso e ha detto questa è la bambina precelta qualunque cosa le accada potrà tornare alle sue sembianze originali ma quindi è la nostra figlia è la nostra figlia ha consegnato ogni signore un pezzo del cristallo in un flacone e sono andati tutti via ho dimenticato di inchinarmi a madre Miranda prima di andar via sto ancora tremando che cosa ha fatto chi era quella bambina chi era quella bambina sto ancora tremando vabbè roba inutile sono una mamma pancina devo uscire dalla live ho visto c'è Danny il car che ti ha detto andate avanti per eccetera eccetera scusami noi abbiamo qualche parte di questa roba qui certo la chiave è lata è solo un pezzo sono necessarie altre tre parti che figata per comporre beh bellissimo bello ah questo è il pezzo cosa devo spingere qui cosa spingo chiudi prendila no questa la prendi prendi interagisci eccolo lì no questo serve per montare merda meglio tornare dal duca merda perché merda meglio ha preso da una chiave perché merda meglio tornare dal duca perché ha detto perché ha preso una chiave ha detto merda meglio tornare dal duca è completamente senza senso metti select per me è incomprensibile sto gioco cioè in realtà per me la maggior parte dei giochi sono incomprensibili ma questo è importante metti select per favore spingo la mappa select il tasto select è ancora rosso è perché ti manca come al solito della roba la porta non aperta ma basta che l'apro dall'interno basta che l'apri stai sentendo mi sa che qualcuno sta a cucinare secondo me va a vedere io sto senza le cuffie no 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 vai a vedere vai a vedere questo non l'ho questo non è aperto al solito è tutto vomitare non c'è niente questo non si spacca lì ho guardato tutto sono tutti avvelenati con chi con noi che siamo troppo lenti a giocare va vaffanculo va ok entra questo era l'ingresso è l'ingresso è diventato blu sì è l'ingresso esci e poi dove vado vai alla Vergine Guerriera dal Duca devo andare dal Duca quindi è dritto all'altare sì dritto e diamo anche al pozzo vai quel pozzo lì su lo vedi il pozzo questo qui sì hai anche lasciato sbloccato una casa che non hai aperto una casa quello in bassa a sinistra non l'hai aperto questo qui basso a sinistra questo qui sinistra esatto vedi che bella c'è quello lì che non l'abbiamo aperto ma non è che l'abbiamo lasciato indietro non lo possiamo ancora aprire strano secondo me hai sbagliato qualcosa io che non ci sono mai stato vai fermo fermo controlla cosa select sei andato giusto sì ok vai prima al pozzo al pozzo a destra magari ci sono i cattivi vai al pozzo vai usa la ruota se ci pensi è incredibile cioè non ne ho perso uno di enigma è a prova di demenze hai visto? a prova di demenze incredibile pure questa cosa ci faceva così questi animali l'ha già ripresa in automatico adesso vai hai capito dove proviamo ad andare alla casa no proviamo ad andare prima alla casa rossa alla porta rossa sì prova prima ad andare lì prova perché vuoi morire lui ha detto dobbiamo andare dal duca come fai a morire che sei deficiente come fai a morire perché muori di inedia perché devo perché perché rischiare se lui non rischi vai prova a andare a vedere secondo me è chiusa tanto questa fossi te per esempio non correrei perché se fai dei rumori infatti erai chiusa scusa questa porta a sinistra select no 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 allora vai dal duca ti ricordi la strada di dove c'è il punto esclamativo però noi non ci siamo stati qui eh sì ma non riesco a capire da che parte ci siamo arrivati qui non siamo scesi dal pollo no c'è il muro no no so come ci arriviamo lì lo sai che non lo riesco sembrerebbe quel ponticello in basso a sinistra vedi là vai su vai su da lì vai su ah dall'altare dobbiamo aprire quella che possiamo farla adesso con la chiave col feto quattro ali vai vai adesso vai dal duca non vuoi andare dal duca vai dal duca sta al punto esclamativo il duca punto esclamativo ma non era dentro il cimitero non era qua dove abbiamo salvato no 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 il punto esclamativo ecco l'ora guarda ci sta l'indicatore perché non posso mettere un perché non è fa perché è giapponese magari hanno un grande senso dell'orientamento guarda avanti stai andando sbagliato infatti stai andando sbagliato stai sbagliando strada non so più come dirtelo dai torna indietro stai sbagliando strada Alessio sei veramente problematico quanti eligmi risolvi giornalmente Pierpa ma è una decina più o meno sto ogni giorno ecco il duca niente ho fatto tutto da solo date un tutto città a quell'anziano intanto il signor distruggere è venuto ha detto ah è scomparso ma che cosa ha detto che gli hai detto che è una nuova privata se fare la voce così tipo uno che sta per cagare no però mi chiedo come si muove lui come si sposta con le gambe se dici che lo reggono vedi però ci hai fatto caso che lo vediamo in tanti posti ma non lo vediamo mai spostarsi l'hai mai visto passeggiare per un corridoio no ma hai già incontrato la prima Lady Dimitrescu abbiamo anche gli abbiamo anche rotto il culo la Lady Dimitrescu la seconda vive in una valle nebbiosa la creatrice di bambole donna Beneviento ah Beneviento vedi che avevo ragione io nessuno è mai riuscito a fare ritorno dalla sua oscura e antica dimora oh mia che noia queste storie a me veramente devastano umanamente questo sei te posso è appena iniziato è appena iniziato il gioco non so se ci hai fatto caso questo è tipo l'inizio del gioco abbiamo finito il tutorial si quindi è Eisenberg non è Van Helsing è una fabbrica di cristalli di metanfetamina io li chiamerei abomini che vanno oltre l'umana immaginazione ci ha fatto una fabbrica per fare gli abomini hai capito che roba vorrebbe trasferirsi a Quaterni ma non ti annoia prepotentemente non ti annoia cioè è incredibile pure il distruggere dice sta cosa del livello di Beneviento ma perché che c'è questo livello e che è successo qua l'arma del mulino ci sono porca troia guarda quanta roba il collezione del maestro il cimeglio di Luizza che è sta roba clamorosa vabbè cioè tu vedi degli scrigni dorati e ti rizza il loot è clamorosa sta roba se ci fai caso mi sembra molto grande questo gioco mi sembra clamoroso ma questo l'abbiamo preso uno sfrantumamento uno sfrantumamento di coglioni mai visto adesso si corre però adesso si corre voglio farti un grande c'è il Paolo è come una cazza luce dorato si nascondono molti tesori eh ma sono bellissimi tesori ma può parlare così lentamente come devi parlare ma lei non sa ma parla ma è parte del nostro esclusivo servizio di assistenza cliente madonna c'è la tosse sto malissimo te l'ho detto sto male sto male non so che cosa fare certo ci sei tu trova degli ingredienti di alta qualità no cuscina la cuscina del duca nooo questo è clamoroso il pilaf con carne pesce anerbe sto morendo io miti tei ai tre sapori tocchitura de pui toccitura de pui ciorba de pork sarmalè de peste bello ma questo è clamoroso ma scusa tutto il pollo che abbiamo posso fare un pilaf con carne il danno in guardia viene ridotto la salute aumenta di un po' permanente questa roba permanente ti ricordi quando avevamo trovato i pesci dove erano i pesci che non li abbiamo presi scusami ma perché fare sta prosopopea non puoi mettere hai raccolto della roba ti aumenta l'energia perché la semplificazione perché devi cucinare ma perché ipercomplicare una cosa noiosa che devi cucinare per aumentare cioè una volta a zelda andavi andavi prendevi un pesce impanato alle erbe friabile e succulento prendevi il cuoricino in più e ce l'avevi tutto il tempo perché devi raccogliere il pollo la minchia e mischiarli perdere tempo leggere il menu cioè ma sinceramente che cazzo me ne frega un ricco perché scrivere un ricco piatto a base di riso cucinato con pollo e carne è un pasto molto sostanzioso che dà conforto e vigore perché non dovrebbero scriverlo perché non aggiungi niente basta che fai ma neanche pila pietanza 1 aumento 1 ma perché ma ce l'ho capito ma che tristezza ma allora perché quando vai al ristorante c'è il menu e non dici semplicemente voglio della carne e basta no perché lì perché lo mangio e ha una componente pure qua lo mangi no non lo mangi Pierpaolo non lo mangi è un gioco è come spingere più uno vigore basta ma è l'immedesimazione non è la parte terroristica è la rovina del gioco ma non è vero è una rottura di cazzo senza appello per menti malate non sono proprio d'accordo con te su sta cosa si chiama si chiama coinvolgimento non è coinvolgimento è noia mortale non sono d'accordo proprio assolutamente con te ho guardato scusami il menu di Bloodborne quando l'hai aperto in orizzontale quello è sbagliato vabbè quello è sbagliato in verticale poi di fianco ho capito quello perché sono le robe fatte dai giapponesi che è tutto sbagliato chiaramente no ma penso a quel livello di complessità come fai a ridurlo ho preso un cranio cristallizzato perfetto Alessio perfetto è perfetto guarda state attenti alle ricette con le parti di animali più avanti ce ne sono di più e migliori sono utilissime quindi fate attenzione a cosa usate Pierpaolo non usare niente mi ricorda Kingdom Come Deliverance questa riflessione di Pianella tipo flashback del Vietnam Alessio sei la vergogna del mondo vivolutico è vero è vero fai schifo cioè allora farmiamo a Zelda dai no non si fa arma farmare non serve non compra la borsa più grande ma compra quello che voglia la costa tanto costa veramente tanto io ho fatto un acquisto sbagliato per me vedi ma il bello il bello che costruiscono tutta sta manfrina per creare a te dei dubbi è vero come se uscissi ma ho fatto bene a prendere quella borsa di Gucci o era meglio se tenevo per le scarpe di Prada perché fai perché ti muovi per la tensione Alessio un commento onesto sulle co-conduttrici delle varie serate di Sanremo purtroppo io non ho visto Sanremo lo spettacolo quindi non posso non posso dire nulla ho visto solo quel bellissimo recap che facevano su RaiPlay cazzo ma avevo un grimaldello e non me ne sono accorto porca troia torna al più presto c'avevo pure un coso e non me ne sono accorto chiave a quattro ali chiave con feto a quattro ali però guarda ma che fanno lasciamo tutta sta roba questo è il liutaio non possiamo perché ti dà fastidio no invece scusami spiegami perché ti dà fastidio voglio sapere perché ti dà fastidio siccome stai giocando con me useremo questa partita per un test è pieno di scrigni dorati sì finiamo il gioco senza prendere proprio impossibile senza prendere neanche uno proprio impossibile prova anzi voglio che lo vedi e non lo apri guarda adesso scommetti che adesso torni indietro e non vado da Beneviento sei d'accordo con me? ritorniamo indietro a riepplorare quello che abbiamo lasciato guarda quanto abbiamo lasciato il pozzo abbiamo lasciato a questo non possiamo entrare perché c'è anche il lutaio questa che non l'abbiamo presa abbiamo lasciato questo si è il duca ma che cazzo è? sta male come me eh beh è tipo te eh che vuoi fare? vogliamo andare avanti o vuoi che torno dietro a raccogliere la roba? potrai sempre tornare in quelle zone vuoi che vada avanti o torni indietro a raccogliere? tanto potrai tornare in quelle zone anche più avanti tu hai fatto sta scelta sbagliata io non aggiungo altro io sarei andato ragazzi a prendere la roba un completista Pierpaolo comunque ci torni in quella zona più e più volte quindi stiamo andando da Beneviento? sì comunque è una femmina cioè non so come dirtelo da Beneviento? no sì ma ti esprimevi come se fosse un maschio dove? era chiaramente un'espressione per te come se fosse un uomo ma su che basi? non è possibile? comunque scherzavano comunque scherzavano Pierpaolo non puoi più tornare là dove c'era lo scrigno adesso se passavi la porta raccoglie la bambola non si può è ferma uccidere la bambola stiamo andando dalla nanetta madonna Alessio cioè possiamo veramente io non so più come dirtelo dalla cioè fai veramente scherzo ma poi tra l'altro sei anche l'unico che si fa problemi almeno fossi uno che non si fa problemi dice le cose come stanno e fine d'accordo? cioè c'è sempre un insulto per una minoranza nelle tue parole costantemente andiamo perché è chiaramente una persona molto minuta era una bambola ha detta una che costruisce bambola e ci faceva vedere una bambola no la cattiva no costruisce bambole ma non è una bambola ma ci ha fatto vedere una bambola che ha costruito no abbiamo visto lei non l'hai vista quella piccolina tutta screziata è lei no è una bambola è lei l'abbiamo vista adesso andiamo a vedere Beneviento quanto scommettiamo? un altro cinquantino guarda lo metto qua no non scommetto cinquanta euro per una cosa del genere potrei aver visto male è pieno di ponti rotti a lei guarda che roba guarda che roba hai appena perso cinquanta euro perché è la bambina? è una bambola no allora c'ho ragione io l'hai persi te cinquanta no dicevo l'hai perso perché non ci hai guadagnato come al solito guarda un po' ma chi è? è nostra moglie? sì con nostra figlia salutala ehi là vieni con me ma perché lui anche nell'altro gioco lui è perennemente in stato allucinatorio ma incredibile ma si droga? probabilmente avrà preso il tipo te sto malissimo pare eterni con sti ponti rotti poi sta fermo sta gamba ti devi mettere cuffie per paura ma manco morto guarda proprio al massimo ne posso mettere una no tutte e due no tutte e due no ma senti ma ci sono io che parlo tanto dai metti le cuffie non rompere il cazzo cioè devi giocare gioca rompi il cazzo coi coi dai adesso io però mi abbandonano tutti anche rose anche rose anche rose non voglio restare solo non voglio restare solo no non è vero no è non la vera non può essere perché hai lasciato quella roba rossa? perché non si poteva entrare ma scusa lei è andata a sinistra e tu vai a destra no lei è andata qua chiedono perché apri sempre la mappa in un corridoio giustamente cioè non è che c'è un bivio o roba del genere cosa c'è scritto? from the binds of flesh she now walks the valley of death libera dai legami della carne ora cammina nella valle della morte ma chi? la bambola a Benevient 87 97 minchia campano 99 no non si legge il nome quella prima ma perché il nome è un grande spoiler del gioco beh se ci pensi ci pensi di che? come che ci pensi di che? facci una riflessione vedi? pure lui pensa di stare a impazzire qua c'è un grande qua c'è un grande tesoro ma perché mi devi mettere la cuffia? ma qual è il motivo per cui mi devi mettere la cuffia? c'hai la gente che me lo dice metti le cuffie e poi ha rutto non rompo il cazzo mi fai vedere che c'era scritto rinuncia ai tuoi ricordi? c'era scritto rinuncia ai tuoi ricordi forget your memories forget your memories lo riesci a vedere? memories no però ci sei andato vicino no non ci sei andato vicino c'è scritto forget your memories come fai a non vederlo? spiegami l'ha scritto il tuo dottore si vede che leggi le ricette del tuo dottore questa fa ridere che ci do metto? una lettera che ci mettiamo? la foto di famiglia perché sono i miei ricordi no? sei d'accordo? ne provi una a caso? non ho capito io purtroppo non capisco le dinamiche di queste robe qua come sempre l'hai risolta? scommettiamo col disolto a primo colpo anche questa te credo se no non c'era l'animazione non penso che ne abbiano fatte 4 se tu ci fai mente locale dai però Alessio che palle ma dov'è il tuo problema con l'audio? perché mi dà fastidio non ti dà fastidio le tieni tutto il giorno le cazzo di cuffie era la tua porta? fammi vedere il muro fammi vedere il muro che ho fatto bene oh oh è tornata la luce è tornata la luce non rompa il cazzo come with me Ethan no perché se è tutto jump scare veramente mi rompe il cazzo più che altro è dove si dice cos'è l'empire state building dai ma io c'ho paura Alessio mi dà fastidio non giochi ai giochi horror è per Diana ma perché pensi che io stia scherzando non sono abituato a giocare ai giochi horror ho paura leva sta mano infilatela nel culo insieme alla peretta beh però è bellissimo ma guarda siamo saliti tanto questa è tipo la rocca di Narni no? che c'è l'ascensore quello che ci mette un sacco a salire manca la gravità in questo in questo cazzo di pianeta perché manca la gravità? ma non lo so è acqua quella che scende certo una cascata una cascata Alessio non sta venendo giù l'acqua in che senso? ma hai visto l'acqua precipitare sotto la forza di gravità non fa così anche quelli fossero fumi ma almeno l'acqua è il vapore dell'acqua ma si dovrebbe intravedere si intravede l'acqua ma non la vedi? oh che ore sono? quanto manca? 15.46 sei arrivato a casa Beneviento sei arrivato a Beneviento dov'è Beneviento? in Basilicata? secondo me sempre Campania Campania Benevento può essere? Massimo Calabria certo Basilicata non credo sono abbastanza ignorante in geografia dove è Beneviento ragazzi? wow 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 dai che almeno facciamo un boss raccogli il fuso raccoglilo non è un fuso è una scarpa è un gomitolo non è una scarpa che finisce con un filo ah no hai ragione non so come cazzo si chiama ho detto fuso ma probabilmente la parola sbagliata qualcuno scendeva le scale? no era il lampadario dove dove andare? non lo so però da qualche parte sperabilmente sarei stato giù io raccogli tutto il raccoglio non c'è niente da raccogliere la porta è chiusa l'hai già provata? quale porta? quella là ma ti muovi dai ma muoviti qui quel coso il vaso c'è un cazzo? vai l'hai aperta la cazzo di porta dai ma vabbè impossibile ragazzi ma come? no no non ce la farò mai a giocarla Alessio è anche fatta bene gli interni sono forse la cosa più carina le texture degli interni effettivamente gli sono venute bene non si può dire un cazzo ruotalo ruotalo è la scrittura che piace a te dai leggimelo tutto ma cos'è se sono delle ripristi? non lo so sto morendo ah così sto morendo c'è una mimosa non lo puoi prendere? no hai sentito il rumore? un ciotto lame dai dobbiamo fare il boss mancano dieci minuti Pierpaolo Alessio se vuoi giochi te io non riesco a giocare mi dà molto fastidio non so come dietro se vuoi puoi giocare te se ti senti così esperto cazzo non si vede niente stai facendo un giro stai tornando esattamente è tutto buio ma è tutto blu è tutto blu non c'è nessuno è blu lì adesso raccogli tutto spacca il vaso cos'era? il cassetto non l'hai aperto non si apre il cassetto non c'è niente sei sicuro? sì giustamente dicono che hai uno strano concetto di buio non si sa non si sa quanto più lo possano illuminare più di così oh ah chiudi pensavo ci fosse qualcosa di nascosto di trasparente che cos'era? non lo so si sentono dei rumori molto strani non prendere l'ascensore non lo prendo? adesso no scusami e prima però quando salivi cosa vuoi? non puoi tornare indietro dai prendi l'ascensore no torno indietro no perché probabilmente l'ascensore ti porta comunque noi qua c'eravamo eh Pierpaolo no l'ascensore è qui quindi non mi porta allo stesso posto perché? perché no perché l'ascensore è qui ma scusami tu hai una casa ok? c'è una rampa di scale e un ascensore dove ti porterà l'ascensore? prendi l'ascensore l'hanno fatta apposta per non farti tornare indietro ma non è possibile perché io posso tornare indietro fidati non puoi tornare indietro adesso siccome dovresti fare il giro del perdono ti dicono prendi l'ascensore ma va sotto l'ascensore eh va bene anche là andavano le scale che andavano in su che andavano in giù però se vado sotto Alessio non ritorna allo stesso punto è chiaro ma prima o poi ci arrivi poi dieci minuti di gioco cinque sono di mappa non c'è niente di interagibile mi pare è incredibile cioè è mezz'ora che giri a vuoto non c'è neanche niente da raccogliere fai partire sto con che lo faccio partire ma c'è un proiettore partirà non si accende con niente manca qualcosa però c'è un proiettore manca il rullino 3 prendi il rullino 3 mi raccomando guarda la mappa ecco non c'è niente devi arrivare al boss Pierpaolo ma non è il boss perché è ovvio che è tutta una preparazione a qualcosa che adesso corri corri ci posso correre io almeno arriviamo al boss poi lo fai tu Pieri gioca a te no ma corri 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 un po' non posso è mezz'ora ma corri spinge e corri raccogli veloce dai se no non facciamo in tempo chi c'è dopo che poi rompe il cazzo tutti cioè abbiamo live in continuazione ma perché non ci lasciano un intercapedine di 10-15 minuti se per caso la puntata lo necessita la musica di Game of Thrones ma chi cazzo è sole mi ha spettato sarei una figlia minore di Royce prego vuoi restare con me per sempre troia indegna e cosa c'è non lo so Pierpaolo puoi guardare e andare avanti ti hanno fatto fermo guarda cosa c'è ma Pierpaolo non c'è niente niente non c'è assolutamente niente raccogli velocemente apri le porte dobbiamo arrivare ai 5 minuti scade il tempo te se scosce la pasta qual è il tuo problema ma scade il tempo purtroppo perché non lasciate intercapedine ma qual è il tuo problema potevamo giocare un'altra ora qual è il tuo problema è chiusa ma chi non lo so io non capisco niente mia mia è la sua fidanzata vai gira l'occhio tirale fuori l'occhio chi era quel rumore non lo so però se stai col dito sull'occhio dai metti l'occhio giralo ancora di più non si gira di più spingi qualcosa guarda guarda RS no RS fai così RS basta c'è un corvo dentro un triangolo esamina la bocca aprile la bocca prendi il terzo firullino hai fatto qualcosa di sbagliato prendi ci vuole uno strumento non ce l'hai o le pinzette no non c'è niente le pinzette le pinzette vabbè ma serve qualcosa per tagliare scusa mi serve qualcosa per tagliarle qualcosa per estrarlo cioè ma che noia mortale serve un unguento per tirarlo fuori eccolo guarda ci sono riuscito oddio ma che era perché fai col rumore del cazzo beh è bella questa cosa che almeno questo elemento manichino ha più indizi e robe varie però è molto 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 viziosa questa cosa molto fetish questo movimento di mano hai risolto l'enigma della chiave ma che gli ha fastidio ma che gli ha fastidio ma che gli ha fastidio non lo so vai 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 monta 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 la chiave ma chi è? non c'è nessuno che calcio veramente fai questa cosa di una di un fetish clamoroso ma come mi accarezzi bene? qua devi fare dai cosa hai fatto? non lo so ho tirato giù rifallo tenta di capire è il triangolo guarda meglio che cosa? non posso fare niente stai fermo usa fermo non posso far nulla tre occhi chiusi dentro a degli esagoni distorti vai accendi la radio interagisci dai usa la chiave c'è chiaramente qualcos'altro da fare no vai di la porta ho aperto la porta sì 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 faccio un giro veloce no ci hanno fatto il giro non c'è niente questo è una salva no salva bravo qua sopra sì sì ok ok ah 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 una volta poi vediamo su su ah ok ma non c'è più niente hai detto? no 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 vai nella porta vai nella porto quale porta? questa? no 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 quella coperta è questa è questa è questa guarda prima la porta la stanza quale porta non c'è niente da guardare amici nascondo io dopo quando arriva il cattivo ci vedi qualcosa da raccogliere guarda dove guarda il centro della stanza aspetta qui a periferia non c'è niente sì ma non si riesce a capire un cazzo con te che ti muovi in questo modo di merda stanza vuota completamente vuota fai select e infatti è vuota c'è un punto esclamativo sì perché devi aprire quella porta qua in cielo stellato non c'è niente serve una chiave che non abbiamo è chiusa dall'altro lato quindi c'è un'altra porta secondo me punto esclamativo select e no vedi c'è un'altra porta quella chiusa c'è il punto esclamativo devi vedere quel punto esclamativo lì sta di fianco alla porta che stai facendo ho tentato di capire come muovermi così non è certo il modo migliore per capire è il massimo dello zoom guarda adesso sta di fianco alla porta e vedi c'è l'interruttore lascio la mano forse da destra della porta eh vedi wow ha risolto l'enigma interagisci interagisci e si chiuderà no pulisci il anello anello coperto di sangue grande è incredibile cioè veramente direi adesso ci sarà un'iscrizione sopra con scritto scappa sei morto guardalo osservalo c'è la bussola osservalo no no y y si esamina guarda bene lì che c'è guarda il castone no è una pietra prezzata guardala bene regola posizione leggi dentro leggi dentro vedi 05 29 11 e poi e poi è il 29 maggio 2011 e poi e quando è nata la figlia e come a parte che magari si sono sposati perché è nata la figlia a quale si sono sposati però gira guarda se ci sia tutto gira no 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 sarà una combinazione va bene ma dove la dobbiamo mettere ricordate la memoria me lo sono già dimenticato 29 maggio 2011 dove vado intanto spingi select ed è diventata celeste quindi ho risolto anche questa style e adesso vai in fondo vai in fondo la porta da dove siete entrati no 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 pepi è fondo non lei non lì questo corridoio controllalo prima di entrare controllalo prima di entrare così no non mi ricordo più che c'aveva dentro non me lo ricordo era uno aspetta o è questo o è questo però dal verso non me lo riesco a ricordare mettiamo che sia questo poi tanto ci manca questo qua quello sotto che era questo dovevamo visto questo era ah chiusi tre chiusi tre chiusi tre chiusi con il coso esatto però ci manca questo qui ce l'abbiamo si da dentro l'occhio di lei spingi select no 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 dobbiamo andare a rivedere l'occhio di lei dobbiamo aprire la bocca non cagare devi andare a vedere l'occhio di lei l'occhio di lei l'occhio di lei per vedere la dimensione ma non abbiamo il terzo beh ma intanto mettiamola a posto si se magari ci arriviamo di corsa già sappiamo come dobbiamo stare si ma tanto qua ci dobbiamo ritornare tu guarda però perché c'ha la bocca ancora com'era l'occhio girato verso destra con le ali spiegate esattamente quello che ho messo io non credo andiamo a vedere o l'altro però andiamo a vedere già sta cambia idea o l'altro esattamente quello ho messo io o l'altro hai sbagliato eh infatti no 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 fammi vedere l'altro girato verso destra fammelo vedere non l'hai messo giusto adesso girato verso destra sì ma forse c'ha più ali spiegate gira no vai avanti vai avanti non c'è più non c'è più c'è questo qua quello con le ali chiuse quello con le ali spiegate allora è questo destra grazie a cazzo per l'ennesima volta te l'ho risolto io ora devi tornare indietro e adesso dove vado abbiamo finito purtroppo l'ora quindi ma non abbiamo fatto niente abbiamo risolto tutti gli enigmi non abbiamo fatto niente salva salva perfetto cioè veramente che anche oggi abbiamo portato a casa un risultato che la metà abbassa vediamo adesso cosa c'è perché non me lo ricordo più dovrebbe esserci multi risponde oggi c'è ah no c'è apex legends defiance con giordana in questo preciso istante cosa c'è sono le 16.01 perché fai quella faccia avrei giocato ancora un bel po' pierpaolo la sfangata ottimo allora come al settimana prossima giochiamo senza mai parlare senza mai parlare in silenzio inalterate martedì prossimo esatto veramente neanche un minuto di parlata non è che è festa non è che siamo a sciare no martedì no forse è lunedì lunedì ma dobbiamo vedere se facciamo sta singola giornata a sciare non la facciamo è complessa dobbiamo vedere come è il tempo perché sembra che ci sia un tempo di merda ma porca puttana di nuovo cioè se non vado a sciare mai grazie quindi per averci seguito fai un saluto alle tue fan a Lele e tutte le altre che ti seguono ciao Lele no fai un saluto però in camera fai un saluto in camera fai un saluto in camera non è un saluto quello là quello è un paresi saluta però vabbè allora è stato un piacere vi ricordo adesso arriva Giordana quindi non ve ne andate via per quanto riguarda me ci rivediamo domani alle 16 ma non è importante tutti i giorni orari a caso 9 su 10 ci trovate Pierpaolo in live almeno tre volte al giorno ma lo fai per tina fa finta che c'hai non hai ma come fanno le su Instagram le ragazze non so perché quando si fanno le foto fanno questa cosa qua quando fanno le non lo so deve essere un vezzo una roba strana non l'ho mai vista pieno pieno chiedi 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 a tutte le Instagramers che ci seguono cioè come fanno così cioè mettono ma si appoggeranno sulla mano tipo così no perché non appoggiano il gomito lo fanno così fanno le foto ma magari qua hai appoggiato e tu non lo vedi no no te lo posso garantire perché sono magari su una sedia ti chiedono se guardi le bambine no non guardo le bambine entrambe le mani dicono comunque no quell'altro era no questo qua che è l'altra cosa questo era l'altro l'altro fighissimo ma non è questo cos'è questo qui ha ragione Alessio ciao cos'è questo qui la cosenza cos'è quella cosa lì questo qua dai quello non te lo ricordi la biondina è un tipo un balletto che ha una parte uno dei passaggi chi è la biondina in tiktoker robe varie cioè non facciamo dicono che è per coprire il doppio mento come dici te vabbè ci potrebbe stare ma no perché di solito le foto da Instagram se fai sempre da lato che cazzo di doppio mento devi avere cioè hai il doppio mento che esce fuori dal mento ti dicono tutti che devi smettere di guardare ragazzine su Instagram cioè dove rivedi questa splendida puntata da domani mattina su il canale di Salutino bravo e dopo domani invece carichiamo la seconda di in realtà già carica altra devi tu schedulare come si deve per dargli visibilità grazie statevi bene un abbraccio fortissimo ciao